gli alunni tedeschi e ungheresi del collegio germanico. No aspetta Irene ci stavo prima io che non abbiamo ancora fatto l'introduzione. Scusami ma allora io siccome mi sono collegata e sentivo che parlava Gaetano pensavo che tu avessi già dato. Allora Matteo state e poi dopo seguiremo questa trafila. Va bene Matteo dai. Allora cerco di risparmiarvi la mia introduzione scritta è estremamente lunga e noiosa e quindi cerco di risparmiarvi dando soltanto l'idea di quello che ho fatto. Sostanzialmente ho cominciato visto che era un problema storico e storiografico con una ricognizione dei testi dell'età moderna e mi son reso conto che sostanzialmente tutti i testi principali che poi non erano tantissimi sono sostanzialmente i libri sui luoghi P di Roma pubblicati nel 6-700 alcune vite dei papi per esempio di Gregorio XIII qualche guida della città di Roma fatta per vari giubilei sostanzialmente tutti quanti sono riassunti nell'enorme voce che Moroni ha fatto nel suo dizionario di erudizione storico ecclesiastica. Quindi in fondo uno può prendere quel testo come il testo iniziale per questo lavoro perché poi è anche un testo che viene sostanzialmente composto quando l'istituzione dei collegi ha ripreso nella città di Roma ma è un testo che eminentemente tiene conto di quanto è successo fino al momento della chiusura dei suddetti collegi. Se uno prende tutto quanto la voce del Moroni io l'ho divisa in varie pagine perché ci sono vari tipi di collegi e così via uno vede che sostanzialmente lui presenta una sorta di movimento in tre fasi. Una fondazione dei collegi che è eminentemente cinquecentesca ed è legata Gregorio XIII non perché tutti i collegi abbiano la bolla di istituzione ad opera di Gregorio ma perché sostanzialmente anche di collegi istituiti dai papi precedenti è lui che cura la creazione dei fondi. Poi abbiamo una seconda fase che è la chiusura. La chiusura che genericamente è indicata nella fase di occupazione francese quindi tra la fine del settecento e primi anni dell'ottocento quando tutti i collegi romani vengono uno dopo l'altro chiusi ma che certe volte è anche precedente e qui c'è un un elemento interessante delle annotazioni di Moroni che mostra come molti collegi soprattutto quelli più piccoli vengono chiusi per mancanza di fondi e a questo punto nasce la questione buona parte di collegi anche ratificati da Gregorio XIII in realtà non sono collegi ipotifici cioè sono collegi che sono istituiti da singoli o da confraternite sulla base in genere di un lascito testamentario e riguardano il concetto di nazione nel senso dell'età moderna cioè non sono nazioni come diremmo noi oggi i francesi gli spagnoli i tedeschi e così via sono naziones quindi possono essere il collegio dei bergamaschi cioè evidentemente i collegi sono legati a naziones che sono anche dentro all'Italia ma in altri stati non in quello pontificio o addirittura sono dentro allo stato pontificio come noi abbiamo chiese nazionale dei marchigiani degli umbri dei bolognesi eccetera a Roma abbiamo ugualmente alcuni di questi che hanno creato dei collegi e in certi casi i collegi sono persone estremamente limitate cioè viene fatto a quella che oggi è via delle botteghe oscure un collegio per un gruppo emiliano ma che sono quelli che sono nati a Castel Bolognese che è un piccolo centro sulla via Emilia ancora oggi che era piccolissimo all'epoca quindi in realtà ci stanno questi microcentri i quali ottengono un proprio collegio nel caso di Castel Bolognese ogni anno devono venire a studiare a Roma otto ragazzi non so neanche se poi questo fosse effettivamente realizzato solo che molto spesso o non bastano le rendite perché magari sono state eh ci sta un lascito del sette degli anni settanta del cinquecento e poi la rendita viene ovviamente a decadere oppure non ci sono abbastanza studenti oppure sono troppo piccoli quindi per esempio abbiamo all'inizio tre centri tre collegi per gli umbri che vengono poi riunificati in uno solo già prima del dell'arrivo dei francesi quindi un primo problema è che i collegi troppo piccoli non sopravvivono un altro problema è i collegi basati su un lascito questi collegi nazionali hanno spesso un target preciso ma questo target potrebbe non offrire gli studenti richiesti quindi il collegio che viene fatto per i fiorentini inizialmente prevede che siano i figli dei fiorentini che risiedono a roma poi successivamente si allarga tutti i fiorentini e infine a tutti i toscani in genere perché evidentemente non si riuscivano a trovare abbastanza studenti quando questi centri minori decadono avviene un un'opera di concentrazione per cui o vengono messi più centri insieme vi ricordate il caso che vi ho accennato prima degli umbri quindi tre centri che vengono messi insieme ma in realtà in certi casi sono non gruppi piccolissimi poi parleranno i due oratori dopo di me del collegio germanico ungarico lì abbiamo gruppi ovviamente già di partenza più notevole i tedeschi e gli ungheresi ai quali poi si aggiungeranno anche altri studenti oppure abbiamo infine un ultimo caso che è quello che sostanzialmente quel poco di rendita che resta non basta per mantenere una sede del collegio un corpo docenti ma a questo punto viene utilizzato semplicemente come una borsa di studio per studenti di quella provenienza per cui a un certo punto per esempio i bergamaschi che all'inizio avranno un collegio accanto a quella che dal secente la chiesa nazionale dei bergamaschi in piazza colonna avranno successivamente delle borse di studio per recarsi a studiare nel collegio clementino tra l'altro qui quindi abbiamo una serie di collegi che non erano stati previsti come collegi per stranieri ma che cominciano ad accettare borse di studio di gruppi più o meno piccoli e quindi ad avere varie persone presenti in certi casi questo corrisponde anche al fallimento di alcune strategie un collegio iper studiato è il collegio dei maroniti collegio dei maroniti parte ma sostanzialmente a un certo punto si spenge e quindi a questo punto i suoi studenti come quelli di altri collegi dell'area medio orientale vengono indirizzati verso il quello che nasce a propaganda fine cioè il collegio urbano inoltre poi abbiamo il caso su cui non mi dilungo perché qui abbiamo cesare che è lo specialista e che tra l'altro ha scritto enormemente il caso dei collegi plurimi prima vi ho ricordato il discorso del collegio germanico ungarico che parte con studenti germanici e studenti ungheresi poi avrà anche persone che vengono da altre aree dell'europa centrale ma pensate al collegio greco che viene studiato sul quale cesare ha già scritto e sul quale riferirà anche oggi a parte che è collegato ad altri collegi che nascono anche fuori di roma per i greci ma abbiamo anche il fatto che il termine greci non è indicativo di una nazione nel senso moderno ovviamente ma neanche strettamente di una nazio cioè di un gruppo dell'età moderna perché se voi pensate come ha mostrato cesare come hanno mostrato anche altri studiosi ci sono per esempio studenti ruteni che sono presenti all'interno di quella struttura quindi abbiamo un collegio che in un certo senso da un lato appartiene a una rete di collegi dall'altro è multinazionale infine nel nel quadro di moroni noi abbiamo la chiusura nell'età francese e poi abbiamo una riapertura nel mille diciamo tra il 1815 e il 1830 di alcuni collegi il riuso di alcune rendite per pagare delle borse per esso degli altri è un quadro che man mano muta anche perché poi lo vedremo nel prossimo convegno molto spesso i collegi verranno riaperti ma non nel luogo originario cioè c'è una sorta di balletto delle strutture cosa che peraltro per tanti collegi era già accaduto in precedenza addirittura già nel cinquecento al momento della fondazione molti collegi inizialmente hanno delle residenze in affitto poi ne acquistano altre insomma quindi ci sta tutto un successivo spostamento quindi il primo blocco diciamo sia di notizie storiche sia di discussione storiografica di questi collegi del ruolo di gregorio tredicesimo del ruolo dei francesi nel chiuderlo e così via è sostanzialmente riassunto dal moroni che non è l'unico testo dell'epoca cioè diciamo degli anni 40 dell'ottocento sui collegi perché anche guide coeve pensa a quelle per esempio del nibi molto spesso riportano notizie dei collegi oppure ci sta il conte serri stori che pubblica a firenze dagli anni trenta in poi una serie di tavole statistiche sull'italia e in quel caso è tutta l'italia ancora d'antico regime cioè non descrive soltanto la toscana ma parla anche dello stato pontificio regno di napoli e così via lui nelle varie edizioni a una serie di pagine basicamente statistiche ma anche con delle note illustrative storiche sui collegi a lui contemporanei poi c'è un calo dell'attenzione e invece riprende lo studio dei collegi sia a livello di sintesi per esempio quella che sarà all'inizio del novecento la catholic encyclopedia sia a livello di studi di singoli collegi quando sotto leone tredicesimo riprende il movimento di fondazione sono creati numerosi nuovi collegi in quel momento sia i nuovissimi collegi se alcuni collegi che erano stati già costruiti sotto pio nono pubblicano dei libri o sulla propria genesi più recenti oppure sulla storia diciamo dei loro primi 50 anni penso per esempio alla storia del collegio nordamericano e così via e a quel punto c'è un nuovo interesse che porterà poi nel corso del novecento alla pubblicazione di materiali documentari una serie di edizioni di documenti per esempio ce ne sono di fantastiche sopra il collegio germanico ungarico soprattutto da parte ungherese e sempre da parte ungherese ci saranno anche la pubblicazione tra le due guerre di numerosissima documentazione sopra tutti i collegi e le istituzioni universitarie nella quale dall'ungheria ci si è recati per studiare in italia infine poi abbiamo una proseguimento degli studi dopo la seconda guerra mondiale il problema di questi studi è che spesso sono studi esclusivamente basati sull'origine dell'autore il quale a questo punto o scrive la storia dei collegi della propria nazione oppure addirittura come per esempio fanno spesso gli storici irlandesi scozzesi fanno la storia degli studenti scozzesi o irlandesi che si sono che hanno studiato in un determinato collegio il che tra l'altro ci ha permesso di avere molte informazioni sui collegi multinazionali perché abbiamo cose tipo gli studenti irlandesi scozzesi nel collegio germanico ungarico e così via però in realtà lì abbiamo tutta una serie di lavori che sono da una parte con questa prospettiva meramente nazionalistica a questo punto nel senso moderno e dall'altro sono molto documentari e molto poco ragionati sulla problematica generale dei collegi invece direi che c'è tutta una nuova ondata di studi che ha permesso anche di tentare dei paralleli a partire dagli anni 80 del novecento una serie di studi che cambiano alcuni punti alcuni lavorano molto sul concetto di nazionnes cioè delle nazioni al tempo di gregorio tredicesimo c'è un'infinità di studi su questo e tra l'altro sull'idea di quella che potrebbe essere viene definita la politica colonialista della chiesa sotto gregorio tredicesimo questo tentativo del cattolicesimo romano sostanzialmente di controllare tutte le chiese cattoliche ivi comprese quelle di rito orientale ma addirittura di andare anche oltre alcuni studi mostrano come in certi collegi vengono accettati non soltanto cattolici di rito orientale ma direttamente membri della chiesa ortodossa che vengono a studiare a roma per un certo tempo in genere con una serie di disavventure successive contemporaneamente però si studia come anche questi tentativi portano a delle conflittualità interne quindi ovviamente prima abbiamo parlato agli irlandesi gli scozzesi gli irlandesi gli scozzesi non vogliono andare al collegio degli inglesi però poi abbiamo i casi dei gallesi che studiano al collegio inglese ma entrano in contrapposizione con gli altri studenti e questo è un qualcosa che si ripercuote in tutte le strutture che presentano insieme più gruppi nazionali che ovviamente sono legati anche alla percezione del tempo se voi pensate come accade nella chiesa di santa maria dell'anima sono tenuti sono considerati scusate come di lingua e quindi di gruppo germanico anche tutti quelli che appartengono all'area neerlandese cioè quelli che diventeranno poi olandesi e fiamminghi ma anche persone che oggi consideremo parte della repubblica cieca tutto c'è tutto il problema degli studenti islesiani di una parte di altri studenti polacchi e così via insomma con una serie di problemi che la storiografia in tempi recenti ha via via approfondito molte di queste cose saranno presentate meglio nel corso di questo convegno per esempio un elemento che sarà sicuramente presentato è quello del ruolo di propaganda fide la quale elabora un collegio urbano che da un lato finisce per ereditare le rendite di altri collegi io ho fatto prima il caso di quello dei maroniti e quindi quegli studenti ma dall'altro cerca anche di imporsi seppure con enorme fatica all'interno del mondo dei collegi pontifici e certe volte cerca di prevaricare addirittura sui collegi nazionali tra l'altro lì ed è un qualche cosa che giovanni pizzo russo che oggi assente ha approfondito nel suo ultimo libro su propaganda fide lì ci sta anche il problema della concorrenza con i gesuiti la maggior parte dei collegi e per periodi più o meno lunghi affidati ai gesuiti in realtà anche lì l'affidamento dell'insegnamento nei collegi potrebbe essere interessante perché in molti casi abbiamo un fenomeno per cui i gesuiti prima insegnano poi mollano poi riprendono però certamente quando viene dissolta la compagnia di gesù si pone un problema che viene in certi casi risolto per esempio ricorrendo a secolari che però hanno studiato presso i gesuiti in altri casi addirittura si prendono ex gesuiti nel frattempo secolarizzati a continuare l'insegnamento propaganda in questo caso cerca di intervenire nel libro di giovanni è raccontato anche il caso di un collegio in cui vengono inviati i soldati per requisirle per evitare che venga mantenuto in mano agli antichi insegnanti gesuiti in altri casi ci sono scontri tra i cardinali protettori noi abbiamo fatto un convegno sui protettori delle nazioni ma considerate che ci sono anche protettori dei collegi e così via e quindi ci sta tutta una fase che precede l'arrivo dei francesi che però vede i collegi in chiara difficoltà che è stata una fase che è stata approfondita da una serie di studiosi ho citato giovanni però possiamo ricordare anche cortan e tanti altri che hanno lavorato su questo periodo dal 1770 ai francesi e poi primi anni dei francesi quando sostanzialmente la vecchia struttura dei collegi tende a cadere quindi a questo punto noi abbiamo un'enorme quantità di studi che cercano di modernizzare il nostro approccio ai collegi quello per cui penso che il nostro convegno possa essere interessante il fatto che mettendo insieme gli specialisti di tanto settore potremmo provare in questa serie di libri che era stata annunciata all'inizio potremmo provare a cercare di avere uno sguardo più complessivo e su più secoli cioè ogni ognuno dei nostri volumi può affrontare un paio di secoli o comunque un periodo a cavallo tra due secoli quindi vi ringrazio ancora tutti per aver risposto positivamente alla nostra richiesta e ridò la parola a Irene grazie grazie Matteo mi scuso per prima e perché c'è stato diciamo questo difficoltà di collegamento e hai aperto con questa rassegna storiografica che siamo veramente curiosa di leggere quando sarà pubblicata perché apre un quadro molto interessante proprio anche dal punto di vista delle degli studi che sono stati fatti finora sui collegi cioè mi sembra che si parta sempre necessariamente dal muroni no che ci offre questo quadro dentro il quale andiamo a cercare quello che oggi ci interessa per poi svilupparlo ecco mi sembra soprattutto anche molto molto interessante questo discorso delle conflittualità interne ai collegi cioè le nazioni eh si riverberano nelle loro conflittualità all'interno dei collegi io studiando un po' in particolare quello inglese ho visto come appunto le varie provenienze danno adito a tutta una serie di screzzi che si ripercuotono poi anche in tutta la l'organizzazione interna bene allora passiamo a uno dei più importanti non per sminuire gli altri ma è forse anche un po' quello più studiato no il collegio germanico ungarico con la relazione di Peter Tussor gli alunni tedeschi e ungheresi del collegio germanico ungarico vi ricordo di richiedo insomma di tenere i tempi in modo che se ci sono poi osservazioni possiamo anche discutere le varie relazioni prego professore può condividere tranquillamente lo schermo eh sì sì grazie mille tanti saluti tutti io se ho bisogno sono qui condividere il mio powerpoint perfetto ecco sì il titolo è un po' modificato io colleghi un germane come ungarico me il suo libro liber ordinazione avevo preparato il mio saggio è in due parti la la prima parte si funziona ecco si occupa della storiografia con il titolo del collegio germanico ungarese alla luce della storiografia e la parte seconda si occupa un documento sconosciuto come come lo so con il liber ordinazione posso fare nuovi risultati al quadro del della storiografia ma 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 questo farò in scritto perché questa prima parte forse per il convegno più interessante durerà almeno 20 minuti comunque il mio contributo svolgerà con il titolo del collegio germanico ungarico ma la luce della storiografia e forse avrà molte ragioni e dati alla discussione di questo convegno molto interessante sono molto onorato essere di nuovo qua con con voi allora quando dobbiamo tracciare un quadro del pontificium collegium germanicum et hungaricum tra i collegi nazionali di roma della prima età moderna il nostro compito risulta allo stesso tempo difficile e facile e facile in quanto l'illustre istituzione fondata nel 1552 come semplice collegio germanico è stata ben studiata dalla storiografia sia positiva che moderna la parte tedesca il rettore dell'istituzione andrea stein buber è stato creato cardinale ha scritto una monografia in due a volumi sulla sua storia il pralato gesuite noto per le sue posizioni intransigenti e antimoderniste riassunse praticamente il lavoro di una vita nella sua opera pubblicata forma finale nel novecento l'anno prima della sua morte da parte ungheresi si allacciò la sua opera un decennio dopo quella di andre veres sui risultati vennero menzionati senza nome da matteo il suo lavoro il lavoro di vera classico è un'opera eccezionale senza tempo della storiografia ungherese si vede che è un parte si veramente una grande impresa matricula et acta vedete powerpoint si 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 matricula et acta hungarorum in universitati bus italii studentium volume secondo roma collegium germanicum et hungaricum matricula sono editi piuttosto dati della matricula e e sumtibus ex alumnorum eus dem collegii hungarorum molti vescovi appoggiavano questa impresa questa edizione veramente veramente illustra e ma la seconda metà della sua raccolta di raccolta di materiale è rimasta manoscritta ed è su nostra iniziativa che si sta tentando di fare rivivere nell'ambito della presente conferenza grazie al padre di di eccezionale presente con noi ex alunno del dello stesso collegio già dalla fine del diciannovesimo secolo in particolare in polso nei anni 1960 e 70 i stessi studenti dell'istituzione pubblicarono serie di studi sulla storia del collegio nella propria rivista corrispondenza corrispondenz blattfurti alumnum des collegium germanicum et hungaricums in altri prestigiosi periodici le grandiose pubblicazioni di fonti dell'ordine dei gesuiti di roma hanno gettato nuova fondamenta nuove fondamenta per i studi il loro editore era un gesuita ungherese laszlo lucac e si tratta prima di tutto monumenta pedagogica societatis e su quattro grossi volumi dopo tutti questi precedenti la storiografia moderna è entrata nella storia dell'istituzione con la grande monografia con la grande monografia di peter schmidt il risultato è stato valutato dai francesi semmeno dominic burel come descritto di seguito e tutto lo studiato del settecento troverai utile a consultare non sto ma anche del settecento questo prezioso studio una della più importanti istituzione romana creata nel mille cinque centocinquantadue per i cittadini di province ecclesiastiche lingua tedesca infatti questo collegio nel 1773 pontificio seminario e residenza dei gesuiti permette a leggere attraverso lo studio del suo funzionamento funzionamento gran parte della politica romana del tempo soprattutto in merito agli incarichi e all'insegnamento e tutta una parte della storia della chiesa post tridentina che viene messa in nuova luce l'origine sociale degli alunni la successiva distribuzione delle funzioni episcopali nell'impero asburgico vediamo anche l'analisi viene esecuita con cura utilizzando gli archivi e il metodo statistico durante il settecento il collegio vivrà una metamorfosi nel reclutamento e nell'insegnamento sappiamo che cresce la tensione tra la chiesa dell'impero e roma la presentazione è seguita di una serie di tabelle questo bel libro e la sua ricca bibliografia sono un buon contributo alla storia della moderna educazione religiosa nelle terre cattoliche fine citazione da Dominic Burel ed infatti grazie al lavoro di lingua tedesca di Schmitt è possibile scoprire molti nuovi aspetti della storia del collegio germanico-ungarico il dilemma di fondo si ripropone sempre si tratta piuttosto di un seminario pontificio dominato dalla curia romana oppure di un'istituzione gesuitica dove le proprie priorità e interessi erano piuttosto quelli della compagna di Gesù da altra parte grazie a tabelle e statistiche vengono esaminati in dettaglio anche l'estrazione sociale degli studenti germanici il loro percorso di studi il loro orario e titoli conseguili ma abbiamo anche un quadro di coloro che hanno abbandonato gli studi le varie ragioni del loro allontanamento e le loro successive carriere ecclesiastiche le cariche che hanno ricoperto e la dignità che hanno ricevuto si potrebbe affermare che il collegio germanico-ungarico il più antico dei collegi nazionali della prima età moderna regruppati intorno allo studium orbis il collegium romanum è anche il più conosciuto storicamente grazie soprattutto all'erudizione tedesca tuttavia la storia istituzionale inserita in una complessa storia ecclesiastica culturale e sociale è stato oggetto di serie critiche negli anni novanta piuttosto da parte ungherese Schmidt sostenendo che i studenti ungheresi erano già ben conosciuti grazie al lavoro menzionato di Andrea Weresch li ha gli studenti ungheresi li ha semplicemente rascurati dalle sue analisi Weresch tuttavia in un breve studio di accompagnamento alla sua prestigio pubblicazione ha pubblicato solo i dati anagrafici e delle matricole ecclesiastiche con solo brevi aggiunte biografiche vediamo dettagli edizione vera è un pubblicazione di fonte con interessanti di dati veramente per esempio ossiamo leggeressul emerigolosi suce sordale cardinale pazmai questa notte alienis rebusse in missevet ne facile sia a superiorum volontatum accomodava ceterum prudenz e molte molte simili note contiene l'edizione sui vescovi ungheresi ed altri prelati ex alunni del collegio ma questa non è un'analisi moderna un'analisi moderna e il produttore di critica ungherese di professor Istvan Bitskei professore dell'università di Debrecen non solo ha registrato l'omissione di parte di Schmidt ma bravamente ha anche completato il compito mancante in forma monografica nella sua opera pubblicata in ungherese in italiano nel 1996 pubblicato la versione italiana dalla casa editrice Viela e qui si vede la versione ungherese tuttavia il sottotitolo dell'opera di Bitskei contributo alla storia della cultura ungherese in età barocca dimostra che contrariamente al complesso approccio di Schmidt il suo lavoro è dominato dalla storia della cultura professor Istvan Bitskei riassumendo le proprie ricerche e quelle di Schmidt afferma come tessi principale che il collegium germanicum et hungaricum attraverso i suoi studenti che tornavano in patria aveva diffuso una cultura religiosa più o meno omogenea da Reno alla Vistola dal Baltico all'Adriatico Carpatico Sappiamo bene che in queste regioni è stato probabilmente il confessionalismo protestante a mostrare per primo i segni della effervescenza spirituale della prima età moderna le correnti spirituali intellettuali e artistiche del cattolicismo tridentino iniziarono a interferire con esso molto sottosistemi del centralismo e dell'uniformismo del governo ecclesiastico romano furono esportati alla regione transalpina nel 600 e 700 Roma e l'Ungheria interagirono attraverso migliaia di canali in parte attraverso la vicina Vienna giunsero all'Ungheria tantissimi mercanti architetti militari centinaia di studenti ungheresi studiarono in altre università italiane a partire dagli anni trenta nel 600 arrivarono missionari italiani non solo nel regno d'Ungheria ma anche nel principato di Transilvania tuttavia l'influenza di Roma è stata rappresentata in modo più trasparente sistematico e continuo per un lungo periodo di tempo dai ex alunni del collegio germanico ed ungarico la seguente metafora di Beach Bay non è solo espressiva ma essenzialmente vera l'influenza di Roma e quella del collegium germanicum et ungaricum sono praticamente la stessa cosa gli ex studenti del collegio sono coloro che in seguito costruirono chiese seminari residenze giardini ornamentali nelle loro sedi episcopali commissionarono statue dipinti musica fecero scrivere libri e in aria li scrissero e curarono essi stessi per non parlare dell'organizzazione dell'istruzione locale o degli inizi della ricerca storica sulle fonti il modello romano può essere rintracciato e verificato ovunque e in ogni cosa e come dimostra l'elenco sopra riportato non necessariamente in dimensioni religiose o più precise precisamente confessionali e tale tesi viene confermata da innumerevoli esempi grazie non solo a Schmidt e Piotr Vichkei ma anche a diversi altri studiosi prevalentemente ricercatori del Settecento sia di tempi passati come Zygmunt Diocco della Transilvania o più recenti come per esempio Maurizio Tani Tomas Vichkei qui presente Tomas Todt e Agnes Dube vogliamo ora considerare in seguito più da vicino alcuni dei casi più importanti tra essi sappiamo grazie a Zygmunt Diocco che una delle radici più importanti delle ricerche storiche ungheresi nel Vaticano è collegata al collegio l'idea di una ricerca più ampia possibile quasi integrale della fonte vaticana e con riferimento ungherese si presenta la prima volta nella storiografia ungherese presso Conte Ignaz Bottiani via sinistra era studente appena da un mese presso il collegio quando nel dicembre 1773 presentò i suoi progetti al decano della storiografia ungherese in epoca barocca Gesuita Giorg Proi e quasi subito si mise a lavorare in qualità di preposito maggiore di Agria in carico tramite il nunzio apostolico di Vienna Giuseppe Garampi l'abbate Gaetano a portare avanti la sua ricerca un giavescovo della Transilvania quando affido al suo bibliotecario in Redaniel un compito di svolgere un'ampia raccolta di materiale nella biblioteca vaticana anzi anche nell'archivio segreto allo scopo di poter scrivere la storia ecclesiastica dell'Ungheria e assieme ad essa della Transilvania per dare alla luce all'istoria sagra sagra del regno d'Ungheria e Transilvania il Redaniel che soggiorna in Italia due anni si soffermò oltre a Roma anche a Venezia ed altre città italiane le sue copie di documenti preparate in questi anni ammontano a migliaia di pagine e mantengono la loro rilevanza scientifica fino fino ad oggi solo grazie a recenti ricerche conosciamo la storia completa del conte Ferencz Borkozi come studente del Collegium Germanicum et Hungaricum di Roma rimase talmente impressionato dalla cultura e dell'arte che aveva conosciuto a Roma che al suo ritorno in patria come vescovo di Agria metà del Settecento assunse artisti italiani incoraggiò la pubblicazione di opere di autori italiani ingherese nel fondo persino una propria tipografia a questo scopo inoltre fece costruire vicino alla sua sede una replica delle ville di Roma con il nome di Fuor Contrasti tutto questo però non era che un preludio alle ambizioni del suo successore Caro Esterhasi via destra l'ambizione di Esterhasi era addirittura quella di fondare un'università presso la sua sede a Vescovile la biblioteca situata nel centro dell'edificio grandissimo vedersi centro edificio grandissimo che doveva essere la sede dell'università divenne una delle prime biblioteche pubbliche dell'Ungheria l'idea di un'università a Agria in ungherese Eger si è dimostrata così duratura da diventare realtà in nostro secolo alcuni anni fa Per quanto riguarda il secondo centro ecclesiastico dell'Ungheria dopo Esterhasi dobbiamo menzionare i nomi due ex-allevi del collegio germanico-ungarico Gabor Potacic e Adam Potacic che vede qui sotto un dato caratteristico questo ultimo Adam Potacic era stato già ordinato sacerdote nella cattedrale latanense quando 1739 fu ammesso all'Arcadia romana col nome Siracus Actoforius Esterhasi ha un culto di fondatore culto attuale di fondatore Eger come Potacic a Calociac le sue statue si dimostrano abbastanza se oggi in questo anno vogliamo dare una valutazione storica di questa particolare istituzione romana possiamo dire che si tratta di un transfer culturale pluridimensionale duraturo ma allo stesso tempo decisamente unidirezionale sebbene possa essere compito di una riflessione di una ricerca collettiva internazionale esaminare l'impatto della presenza dei studenti dei collegi nazionali su Roma sulla città e i suoi abitanti o anche sulla stessa corte papale è indiscutibile che il collegium germanicum et hungaricum fu il principale veicolo dell'espansione barocca italiana verso verso Europa intera intera Europa centrale vale anche la pena di riflettere sulle coordinate del paradigma della confessionalizzazione di Reinhard Schilling è noto che la creazione di nuove istituzioni educative specifiche per una determinata comunità religiosa è stata un fattore comune decisivo per tutte le nuove confessioni il fatto che c'è in una fase iniziale insieme alla centralizzazione centralizzazione popale tutta l'Europa centrale il sacro romano impero in senso lato dei paesi della Sacra Corona d'Ungheria disponesse di un'istituzione centrale di questo tipo dava loro un forte vantaggio competitivo rispetto alle denominazioni protestanti forse non siamo lontani dalla verità se consideriamo l'istituzione come un seminario missionario del vecchio continente che con il suo multiculturalismo interno e la sua multietnicità oltre al suo naturale carattere sovranazionale ha contribuito alla formazione dell'immagine della chiesa e del clero europeo che tendiamo a proiettare all'epoca del tridentino programmatico ma che è stata formata realmente nel settecento e in parte fino all'ottocento nell'ambito della confessionalizzazione ritardata cioè ben illustrato dal fatto che i prelati ungherese appena elencati furono in molti casi fondatori dei seminari delle loro diocesi oltre che i realizzatori delle infrastrutture ecclesiastiche barocche di base inoltre la natura missionaria del seminario è ulteriormente sfumata dalla continua presenza dei paolini ungheresi tuttavia questa presenza dei paolini aveva ragioni storiche il collegio ungherese fu fondato nel 1578 sulle fondamenta della loro casa e proprietà medievale nei pressi della chiesa santo Stefano Rotondo ed esso unito con il collegio germanico da parte di Greg Eugurio il tredecesimo nel 1580 la loro attività l'attività di paolini ordine dei religiosi ungheresi missionaria può essere spiegata con la riforma dell'ordine che ebbe luogo alla metà del seicento all'interno del collegio stesso le tendenze opposte erano già ben avviate i gesuiti si stavano allora liberando dagli studenti paolini e sembrava ormai concludersi la lunga lotta per trasformare il seminario pontificio in un collegio d'élite della compagna di carattere sempre più aristocratico non ostenta il ruolo crescente della congregazione per la propaganda nelle supervisioni delle sue attività delle sue attività questo processo tuttavia come abbiamo visto non è compromesso l'efficacia dell'istituzione in realtà sia che si consideri il transfer culturale l'effetto di organizzazione confessionale tridentina nel settecento questo processo aveva addirittura aumentato l'efficacia dell'istituzione nell'europa centrale e certamente il regno d'ungheria Bocciani esterasi Borkuzzi Potacic sdimensionati ex-alunni prelati erano tutti aristocratici ungheresi e croati Potacic il trambi che colloca il periodo di massimo splendore dell'istituzione nel settecento e non a certo torto il graduale rafforzamento delle strutture ecclesiastiche locali o più precisamente diocesane è una spiegazione logica del declino del carattere missionario questo istituto lo spicco romano avvicina il fine è interessante notare che il carattere multietnico dell'istituzione non ha mai causato gravi disagi al suo funzionamento mentre nonostante l'ampia area geografica i seminaristi provenienti dall'impero possono essere visti come un'etnica tedesca quasi quasi uniforme le diocesi del regno d'ungheria erano popolate oltre che da ungeresi ungari anche da un buon numero di slavi slavi provenienti dall'ungheria superiore ora slovacchia da croati e anche occasionalmente da dalmatie e bosniaci tutto questo naturalmente non significava che non ci fossero problemi problemi grandi e gravi paradossalmente però la presenza ostante di problemi disciplinari causati da ungheresi croati ha fatto sì che i superiori fossero in grado di mettere in campo un giusto trattamento cardinale pasma aveva chiesto al rettore dell'istituto di essere più paziente nel trattare con gli studenti ungheresi che erano cito di natura selvaggia fin dalla nascita con l'accezione di alcuni rettori di origine italiana come Bernardo Castori all'osio Spinola i superiori gesuiti di grande esperienza sono prevalentemente tedeschi in questo senso quindi nonostante la natura multietnica del corpo studentesco possiamo davvero parlare in un'instituzione tedesca nella città eterna non è un caso che i registri tenuti dai magistri in molti casi citano solo il collegium nostrum germanicum un esempio per questi registri menzionati è il libro delle ordinazioni sacerdotali del collegium contiene molti molti dati interessanti e forse la presenza dei chierici ungheresi e tedeschi si può analizzare più dettagliatamente ma come avevo promesso questo farò in scritto e ora mi ringrazio molto per la vostra pazienza grazie mille grazie grazie per questa interessantissima relazione che non si ferma soltanto all'analisi interna diciamo del punto di vista storiografico sul collegio ma quello che mi ha molto interessato è stato anche questo discorso sul transfert culturale unidirezionale cioè questo soprattutto che si verifica nel settecento d'opera di questa aristocrazia ecclesiastica che si è formata nel collegio germanico ungarico quindi mi sembra anche in questo caso aspettiamo la relazione scritta che sarà di completamento anche sulle fonti e passo proprio la parola all'altro relatore che ci parlerà a quanto capisco proprio di fonti sul collegio è già stato ricordato questa figura di Andreas Veresch sulla storia del collegio germanico ungarico quindi passo senz'altro la parola al relatore mi dica lei come si pronuncia il suo cognome e mi perdoni per la mia ignoranza prego si pronuncia si pronuncia benissimo ho imparato qualche cosa grazie imparerò ancora di più dalla sua relazione prego a lei la parola Stimatissimi colleghi nel mio intervento vorrei presentare una raccolta di fonti conservata nell'ascito di uno storico ungherese già ricordato Andre Veresch che è custodita nel dipartimento manoscritti della biblioteca dell'Accademia delle Scienze di Ungheria a Budapest questa raccolta di fonti merita la nostra attenzione perché riguarda la storia del collegio germanico ed ungarico di Roma e per questo motivo il mio intervento è strettamente collegato a quello del professore Peter Tuchel prima di entrare nel merito vediamo brevemente molto brevemente la vita e attività del nostro autore Andre Veresch è nato nel 1868 nella cittadina di Bekish nella provincia omonima in una famiglia di intellettuali e patrioti suo padre Shandor Veresch ha partecipato nella rivoluzione e nella guerra di indipendenza del 1848-49 dopo l'intervento russo che mise fine alla guerra di indipendenza ha dovuto fuggire all'estero ha vissuto in vari paesi europei e a Londra ha ottenuto il diploma di ingegneria nel 1859 Shandor Veresch ha colto l'occasione di combattere ancora una volta contro Iasburgo e si è arruolato nella legione ungherese di Italia dopo questa esperienza si è trasferito a Bucharest dove in qualità di ingegnere lavorava sulla prima linea ferroviaria del paese Shandor Veresch era anche uno scrittore e ha pubblicato diverse opere sulla emigrazione ungherese e sulla geografia e etnologia della Romania quest'ultimo interessamento del padre ha influito molto sul figlio Endre che da piccolo praticamente da neonato ha seguito il suo padre a Bucharest dove ha conosciuto la cultura e la storia romena e ha imparato anche la lingua dal 1891 Endre Veresch ha frequentato l'università di Kolosvar dove ha ottenuto il diploma di insegnante di storia e geografia tra il 1894 e il 97 ha completato la sua formazione all'università di Vienne studiando diplomatica dal 1898 era professore nel liceo statale di Devo nel 1905 è tornato a Kolosvar dove era archivista dell'associazione culturale ungherese dal 1915 entra nel servizio dello stato come esperto del reparto romeno del ministero per il culto e per la pubblica istruzione da qui è passato al ministero dei affari esteri dal 1921 era pensionato ma lavorava come traduttore per i tribunali e ha aperto un'agenzia di traduzioni professionali aveva già 76 anni quando nel 1944 ha perso tutto nel bombardamento di Budapest dopo la guerra per i suoi ultimi anni si è trasferito a Pecci dove morì nel 1953 Andre Veresh era un ricercatore prolifico in circa 40 anni ha pubblicato 40 volumi prevalentemente raccolte di fonti storiche era interessato prima di tutto alla storia del principato della Transilvania della famiglia Batori dell'attività dei gesuiti Cossevino Cario Argenti e Santo e dei legati patrizi si interessava della storia della Moldavia della Valachia della lunga guerra cioè della guerra dei tredici anni di Ungheria e della persona del generale Bastà e naturalmente si è interessato alla pellegrinazio accademica come già ricordato Peter Tucciolo Andre Veresh ha fondato le collane Fontes Rerum Transilvanicarum e Fontes Rerum Ungaricarum e dopo la grande guerra ha collaborato con ricercatori rumeni nella collana documenti relativi alla storia della Transilvania della Moldavia e della Romania Andre Veresh era un ricercatore minuzioso è caratteristico per lui che i 585 documenti del gesuita Alfonso Cario li ha raccolti in 32 archivi di 19 città diverse Roma Napoli Venezia Firenze Milano Modena Manto eccetera questi enormi lavori di ricerca sono stati solvenzionati prima di tutto dall'Accademia delle Scienze di Ungheria che oggi custodisce il lascito scientifico di Andre Veresh tuttavia il nostro autore non si è limitato soltanto alla pubblicazione di fonti storiche era collaboratore della collana Biografie storiche ungheresi curata da Lojosh Deji e pubblicata dall'Associazione per la ricerca della storia ungherese in questa collana Veresh ha pubblicato la biografia della regina Isabella di Ishtvan di Ishtvan romani e romani e era promotore della mutua comprensione dei due popoli tra le due guerre mondiali cioè in un periodo molto delicato sotto questo aspetto Veresh ha cominciato a realizzare un suo vecchio progetto la bibliografia romeno-ungherese i tre volumi pubblicati nel 1931 e 35 comprendono in ordine cronologico le descrizioni degli scritti pubblicati dal 1473 fino al 1878 di autori ungheresi che si occupavano di temi romani e di autori romani che si occupavano di temi ungheresi. Per questa sua impresa, nei decenni del dopoguerra, Andre Veresh era ricordato in Ungheria e in Romania come personaggio di spicco della riconciliazione dei due popoli. In questa sede ci interessano le ricerche di Andre Veresh relative al fenomeno della peregrinatio accademica. Come ricorda egli stesso in un articolo pubblicato nel 1941, la peregrinatio accademica come fenomeno da esaminare inizialmente non era un suo obiettivo. Nel 1901 è arrivato a Roma per fare ricerche archivistiche sulle relazioni internazionali dei esponenti della famiglia Batori, principi della Transilvania. Durante le sue ricerche ha trovato sempre più documenti e indizi relativi a studenti provenienti dal regno di Ungheria che studiavano in università italiane. Poiché l'archivio segreto Vaticano era chiuso ogni giovedì, Veresh cominciò a dedicare questo giorno alle ricerche nell'archivio di Stato di Roma. Lì ha trovato anche pubblicazioni relative agli studenti dell'Università di Padova, tra i quali Veresh ha scoperto un gran numero di studenti ungheresi. Per questo motivo, dopo il suo soggiorno a Roma, non è tornato immediatamente in patria, ma si è fermato a Padova per copiare le annotazioni del registro, matricola, dell'Università relative agli studenti ungheresi. A Padova, Veresh ci torna ancora quattro volte, fino a 1915, l'anno in cui ha pubblicato il primo volume della nuova collana, matricola et acta Ungarorum in Universitatibus Italii Studentium, all'interno della collana Fontes Rerum Ungaricarum. Come era caratteristico per lui, non si è accontentato di pubblicare i soli dati dei registri, ma ha voluto raccogliere tutto sugli studenti che era in loco raggiungibile. Per esempio, se uno studente morì a Padova, Veresh è andato nel cimitero a cercare la sua tomba e ha pubblicato la descrizione della lapide e l'iscrizione su di esse. Passano solo due anni e Veresh pubblica il secondo volume di questa sottocollana sui studenti provenienti dal regno di Ungheria, del collegio germanico ed ungarico, dagli inizi dell'istituto fino all'anno della pubblicazione del volume, cioè 1917. È qui che arriviamo alla raccolta di fonti, trascrizione di fonti, appunti, lettere, illustrazioni, conservata nel Dipartimento Manoscritti della Biblioteca dell'Accademia delle Scienze di Ungheria. Nella premessa del volume pubblicato nel 1917, Veresh ci offre indicazioni precise su questa raccolta. Scrive, infatti, cito, Ciò che manca nelle biografie dei singoli studenti sarà pubblicato nell'appendice del secondo volume di questa opera, in cui pubblicherò le lettere, relazioni degli studenti ungherisi e i documenti più rilevanti dell'istituto sulla presenza ungherese nel collegio, che possono servire da base per scrivere la storia del collegio dal punto di vista ungherese. Spero che questo volume non tarderà, tanto che dopo tanti anni di ricerche, il materiale è quasi al completo. Fine citazione. Leggendo le parole dell'autore, sembra legittimo di porci la domanda, se il materiale era al completo, o quasi al completo, perché non ha pubblicato i due volumi nello stesso tempo? La risposta a questa domanda la troviamo in alcune delle lettere che sono conservate nella raccolta in questione. Veresh ricorda del resto anche nella premessa che la pubblicazione del primo volume era possibile grazie al sostegno economico molto generoso degli ex alunni ungheresi del collegio, come ha ricordato anche Peter. Quando Veresh ha informato il vescovo Gustavo Mailad di Transilvania sul progetto, il prelato, molto affezionato al collegio, si è commosso e subito ha scritto agli altri ex alunni, che seguendo l'esempio del vescovo Mailad hanno fatto delle donazioni molto generose e aspettavano con ansia la pubblicazione del libro. Come ho già menzionato, Veresh preferiva un metodo di lavoro che per un successo maggiore ha lasciato tempo per chiarire tutti i dettagli e trovare nuove fonti e nuove informazioni. Con ogni probabilità, Veresh non voleva deludere i prelati e ha dato in stampa il volume anche se non l'ha considerato del tutto completo. E nello stesso tempo aveva già in mente un secondo volume, un secondo tono. Infatti, questa raccolta di fonti è stata conservata nel reparto manoscritto dell'Accademia come il materiale del secondo volume. Tuttavia, ventiquattro anni dopo, nel 1941, Veresh ha pubblicato un altro volume del titolo Matricula et acta Ungarorum in Universitatibus Italiae Studentium da 1221 fino al 1864 nella collana Monumenta Ungarie Italica, in cui ha pubblicato nuovi dati in 750 pagine su alunni ungheresi in 13 università di Italia. Nella prefazione di questo volume menziona ancora il mancante tono secondo del volume sul collegio germanico ed ungarico. è precisa che le circa 80 pagine dedicate agli studenti ungheresi a Roma non contengono i dati relativi agli alunni del collegio germanico ed ungarico. Quindi, nel 1941, il progetto del secondo volume esisteva ancora. Tuttavia, dopo aver dato una occhiata a questa raccolta, io faccio fatica di vederla come materiale quasi completo per la pubblicazione di un volume. È un materiale senz'altro vasto. Contiene 420 fogli numerati, ma con le carte, pagine, illustrazioni, foto non numerate, i scatti digitali sono 522. Se vogliamo raggruppare i documenti, possiamo distinguere sostanzialmente tre grandi gruppi. Il primo gruppo sono le note bibliografiche e varie annotazioni nate durante il lavoro di ricerca. Per esempio, ci sono una trentina di pagine non numerate che contengono dati bibliografici secondo le diocesi di Ungheria. O una decina di pagine che riguardano la pubblicazione del primo volume di cui ho già parlato. Il secondo gruppo sono le varie illustrazioni, immagini, cartoline e foto, alcune dei quali sono state già pubblicate nel primo volume. E' il terzo gruppo di documenti, il più vasto, che contiene per lo più le lettere e i documenti ufficiali, statuta, lettere di fondazione, eccetera, che Veresh voleva pubblicare. Si tratta di una grande quantità di lettere, tra le quali troviamo alcune dati lo scritte e consegni di correzione di bozze. Cioè, danno la sensazione di essere già quasi pronte per la pubblicazione. In questo gruppo di lettere sono riuscito a identificare solo alcune tematiche. Per esempio, le prime cinquanta pagine non numerate sono lettere che riguardano esclusivamente gli alunni provenienti dalla diocesi di Pecci. Poi, una ventina di pagine contengono lettere che riguardano le controversie tra gli alunni ungheresi e croati negli anni settanta del Settecento. Di simile dimensioni sono le lettere dell'alunno Ferenc Klimo all'ozio George Klimo, vescovo di Pecci. Poi, quasi cento pagine conservano lettere che riguardano il trasferimento del collegio a Pavia, nel tempo dell'imperatore Giuseppe II. Per concludere, vorrei esprimere il mio parere sul come procedere con questa raccolta di fonti. A mio avviso, sarebbe difficile farne un unico volume, cioè pubblicare le fonti con le annotazioni necessarie, in un volume, realizzando e portando in termine, in questo modo, il progetto originale di André Versch. Forse sarebbe più utile per la storiografia di rivedere il primo volume del Collegio Germanico ed Ungarico e riscrivere i biogrammi contenuti in esso. Non dobbiamo dimenticare che, per ovvi motivi, André Versch non ha potuto consultare gli ultimi settant'anni dei registri, dei matricoli. I biogrammi dal 1847 fino al 1917, cioè anno della pubblicazione, sono stati scritti da Veresch imitando lo stile dei registri, come ammette egli stesso nella prefazione. Cioè, quelli non sono fonti pubblicati, pubblicate, ma ha imitanato soltanto lo stile dei registri. Il che vuol dire che in realtà non sappiamo ancora cosa sta scritto nei registri su questi alunni. Direi quindi che con il libro delle ordinazioni di cui ha parlato Peter e con il libro dei giuramenti, un altro documento importante, e con altre fonti rinvenute negli ultimi decenni, di questa raccolta preziosa di Veresch, il primo volume potrebbe essere riveduto e riscritto e pubblicato in questo modo. Grazie per l'attenzione. Grazie a lei per questa relazione su queste fonti e su questo personaggio. Ci ha fatto vedere come si lavorava un tempo andando, spostandosi da una parte all'altra. Io ho pensato anche che oggi sarebbe, nonostante i mezzi aiutino, molti ricercatori sono drenati purtroppo da altre attività molto meno così compascenti con la ricerca. Per cui ho immaginato questo personaggio che va al cimitero a vedere le lapidi e trascrive le lapidi. Molto suggestivo. Vorrei chiedere ai presenti se ci sono, visto che queste due relazioni sono tematicamente anche vicine, se ci sono degli interventi, se ci sono delle domande ai due relatori che hanno trattato sotto vari aspetti del collegio germanico-ungarico. C'è qualcuno che vuole intervenire? Va bene. Allora ringrazio di nuovo, sono curiosa di capire come, visto che sono state fatte delle proposte di ricerca per utilizzare anche questo tipo di fonti, mi auguro che possano poi essere messe in pratica, visto che ormai c'è una nutrita squadra di studiosi ungheresi che si occupano di queste tematiche. Quindi auguri per le prossime vostre ricerche, sempre molto preziose. Allora, passiamo alla prossima relazione, quella di Cesare Santos, che è già stato citato ampiamente per gli studi precedenti che tutti conosciamo. Oggi ci parlerà il Collegio Greco di Roma e la rete delle istituzioni greche nella penisola. Prego. Grazie. Spero che mi sentiate. Condivido una presentazione. Prego, professore. Eccola. Va bene, vedete? Perfetto. Il Collegio Greco di Roma, fondato nel 1577, in via del Babuino, da Papa Gregorio XIII, con la collaborazione fondamentale di un personaggio che è stato nominato forse, ma comunque sì, e dovrebbe esserlo ancora di più, in quanto artefice, insieme a Gregorio XIII, di molti delle fondazioni di cui stiamo parlando, cioè il cardinale Giulio Antonio Santoro, il cardinale di Santa Severina, e il Collegio Greco, dicevo, è stato oggetto di molti studi che ne hanno esplorato in profondità la direzione, il curriculum accademico, la vita quotidiana degli alunni, i loro tragitti personali usciti dal collegio, spesso, peraltro, non in linea con le speranze della cure umana. Come è stato già detto da Matteo, ho già scritto sull'argomento, quindi vorrei non ripetermi nella sede odierna, e quindi ho deciso di concentrarmi su un aspetto meno indagato, quello, diciamo così, della sua fortuna, della fortuna del collegio, nell'ispirare la realizzazione di una serie di altri collegi per studenti greci, eretti nel corso del XVII e del XVIII secolo nel territorio della penisola italiana. Nonostante il titolo un po' troppo generale della mia comunicazione, sarebbe veramente molto difficile in una ventina di minuti descrivere tutto questo network. Quindi, dovendo fare, diciamo, una sintesi, una selezione, anzi, nella mia relazione ho deciso di tralasciare il caso dei due collegi pensati nel XVIII secolo per l'educazione religiosa delle comunità greco-albanesi del meridione d'Italia, cioè il collegio italo-greco Corsini, condato nel 1732 a San Benedetto Ullano, in Calabria, e il seminario greco-albanese di Palermo, eretto nel 1742. Ho pensato che fosse, invece, più interessante, per la giornata di oggi, studiare il rapporto tra il collegio greco di Roma e tre altre istituzioni educative sorte nel territorio della Repubblica di Venezia. Istituzioni che, a differenza dei collegi fin qui menzionati, non furono mai sottoposte al controllo diretto della congregazione di propaganda fide né della curia romana, e che con il collegio pontificio, con il collegio romano, ebbero un rapporto, per così dire, ambivalente. Mi riferisco ai collegi Paleocapa e Cottunio di Padova e al collegio Flangini di Venezia. Questi istituti sono, devo dire, ben conosciuti dagli studiosi della diaspora greca, in età moderna, ci sono abbondanti studi, soprattutto in lingua greca, ma non solo, ma l'ottica e le fonti con cui li considererò in questa sede lo sono un po' meno. Intendo infatti concentrarmi sul controllo confessionale esercitato dalle congregazioni pontifice e, in particolare, dal Sant'Uffizio, non solo sul collegio romano, ma appunto anche sugli alunni e i docenti greci dei collegi veneti, e sulle prevedibili resistenze che questo sforzo appunto di controllo confessionale provocò. Sin dalla sua fondazione il collegio Sant'Atanasio suscitò inquietudini e problemi teorici agli occhi del custodio dell'ortodossia. Il collegio Sant'Atanasio è il collegio Sant'Atanasio dei greci, quindi è il modo, diciamo, con cui chiamerò il collegio greco di Roma per non confonderci tra tutti i collegi greci di cui sarà fatta menzione in questo intervento. Come è noto, il fine ultimo del collegio greco di Roma era quello di formare un clero cattolico di rito greco che potesse diffondere la fede di Roma nel Levante, in particolare nel Levante ottomano. Si poneva però il problema dell'inquadramento canonico degli alunni che li poneva di fronte a un paradosso. Gli allievi che avessero voluto infatti esercitare il ministero sacerdotale tra i fedeli greci avrebbero potuto farlo solo ottenendo un riconoscimento ufficiale da parte della gerarchia attiva in quei paesi, cioè della gerarchia ortodossa, ma rinnegando quindi in un certo qual modo l'educazione ricevuta a Roma. Quelli invece che avessero voluto rimanere fedeli al cattolicesimo in maniera più rigida, più aderente alle istruzioni ricevute, dall'altra parte si vedevano a questo punto costretti invece a rimanere in Occidente, spesso a rimanere a Roma, a far carriera in Curia e alla fine a passare al rito latino, ma in questo modo tradendo invece il giuramento fatto all'ingresso del collegio appunto di seguire il rito greco. A causa di queste difficoltà, di queste contraddizioni, propaganda e il sant'uffizio si trovarono spesso a dover esaminare da un lato richieste di dispensa, dispense canoniche, di assoluzione da parte di ex allievi che si trovavano appunto in situazioni irregolari e dall'altra a ricevere continuamente critiche e lamentele da parte dei missionari attivi appunto nel Medio Oriente nei confronti di quegli stessi alunni del collegio che una volta ritornati nei loro paesi d'origine si trasformavano a volte per convenienza in avversari del cattolicesimo e avversari tanto più agguerriti e tanto più pericolosi in quanto avevano studiato a Roma, diciamo così, e quindi avevano una formazione culturale spesso superiore ma in generale era una conoscenza appunto molto ravvicinata del cattolicesimo. Nonostante tali criticità, negli anni venti del seicento il collegio Sant'Atanasio rimaneva l'unico istituto del suo genere e quindi un punto di passaggio obbligato per qualunque greco desiderasse un'educazione religiosa di qualità ed è il motivo per cui appunto in questo periodo si ritrovano anche personaggi di famiglie non cattoliche che poi dopo non hanno un percorso, diciamo, all'interno della chiesa cattolica ma che comunque passano dal collegio. Non stupisce, diciamo, quindi di vedere come fosse un mutamento, diciamo, interno all'ordinamento del collegio greco di Roma che finisse per provocare la nascita della prima vera alternativa al suo monopolio educativo con l'erezione appunto del collegio Veneto dei Greci a Padova. Il primo progetto di un ente volto all'educazione dei giovani greci provenienti dai territori veneziani d'oltremare risaliva in realtà al 1583 anno in cui il vescovo cretese Giosafat Paleocapa lasciò la propria eredità al governo della Repubblica perché la impiegasse per finanziare 24 borse di studio. 12 destinate a alunni da inviare al Collegio Pontificio di Roma quindi sostanzialmente 12 borse di studio per studiare a Roma, al Collegio Sant'Atanasio e altre 12 per giovani invece da educare in un collegio nuovo da erigere nella città di Padova perché Padova? Perché era lo studio appunto della Repubblica di Venezia la sede dell'università della Repubblica di Venezia. Le rendite ricavate dai beni del Paleocapa però si rivelarono, e non è la prima volta che succede appunto in questi casi, inferiori alle aspettative insufficienti a coprire tutte e due le spese e quindi ci si limitò per degli anni a finanziare il solo soggiorno romano solo queste borse appunto di studenti provenienti da territori veneziani studenti presso il Collegio Greco di Roma. Almeno fino a quando le tensioni tra i due stati tra la Repubblica di Venezia e la Santa Sede divennero insostenibili, come si sa. Nel 1623, prendendo a pretesto l'affidamento del Collegio Greco di Roma all'ordine gesuita c'era stata una parentesi in cui appunto i gesuiti non avevano più controllato il collegio che era stato affidato ai domenicani ma nel 1622-1623, non ricordo, tornano di nuovo a essere al controllo appunto diciamo così educativo e gestionale del Collegio Greco prendendo a pretesto il ritorno dei gesuiti espulsi dai territori della Serenissima pochi anni prima, siamo appunto nel contesto diciamo delle tensioni giurisdizionali ben conosciute tra Venezia e Roma il Senato della Repubblica decise di ritirare i propri studenti dal Collegio Greco di Roma e di dare realizzazione al progetto del Paleo Capa e quindi a dirigerne appunto uno proprio controllato interamente a Padula progetto che vide la luce dieci anni dopo il collegio che era sotto il diretto controllo dei riformatori dello studio Batavino di questa magistratura era rivolto a giovani di età compresa tra i 16 e i 20 anni pronti per essere avviati agli studi universitari e non faceva alcuna distinzione di rito quindi sia studenti di rito greco che di rito latino poiché fossero greci di origine proveniente da territori veneziani d'oltremare l'obiettivo era quello di provvedere ai bisogni educativi appunto dei sudditi greci veneziani in una maniera che fosse completamente sotto il controllo della Repubblica senza rischiare né le influenze filoromane tipiche del Collegio Sant'Atanasio e delle scuole missionarie gesuite né la propaganda culturale filo protestante potremmo dire allora promossa dall'entourage del patriarca di Costantinopoli Cirillo Lucaris la direzione dell'istituto di questo Collegio fu affidata ad un umanista di alto valore il filosofo Giovanni Cottunio originario della città di Veria non lontano da Salonicco allora docente di filosofia nello studio Patavino quest'ultimo si trova però ad assistere ad una notevole conflittualità tra gli allievi del Collegio tanto da abbandonare presto l'incarico di direttore del Collegio Paleo Capa e di concepire invece un progetto alternativo meno condizionato da ragioni politiche e rivolto invece a giovani provenienti da tutte le province greche quindi non solo sudditi veneziani nel proprio testamento redatto nel 1653 e successivamente ampliato poco prima della morte nel 57 Cottunio decise di usare le rendite provenienti dai propri beni a beneficio di un numero più limitato di alunni 8 ma unicamente appartenenti alla chiesa orientale questi giovinetti di età compresa tra i 12 e i 15 anni quindi stiamo parlando diciamo di alunni più giovani rispetto a quelli rispetto a quelli del Paleo Capa che continuano a esistere sarebbero stati alloggiati e nutriti in un edificio che vedete di sua proprietà di rimpetto alla Basilica di Sant'Antonio quindi in un luogo anche abbastanza strategico per tutto il tempo della loro educazione gli studi di grammatica di poesia di retorica logica filosofia medicina teologia e altre arti erano finalizzati a formare allievi che potessero poi cito in stato secolare o regolare giovare il prossimo e specialmente in estirpare gli odi nazionali e politici autori dello scisma e di ogni differenza nella chiesa di Dio quindi il Cotunio che era stato è importante dirlo allievo e poi docente al collegio greco di Roma tra il 1605 e il 1613 aveva in mente un istituto che fosse sicuramente compatibile con la religione cattolica professata dalla Repubblica di Venezia e sarebbe stato difficile il contrario almeno un quadro teorico ma a suo tempo che rimanesse completamente risolutamente greco secondo una sensibilità piuttosto diversa da quella romana Cotunio prediligeva parlare di unione delle chiese orientale e occidentale piuttosto che di riduzione degli scismatici che era diventata un po' la parola d'ordine all'epoca a Roma riduzione degli scismatici alla verità cattolica inoltre se molti elementi del suo collegio richiamavano quelli del collegio romano a partire dall'abito imposto agli alunni molto maggiore era l'attaccamento al rispetto dei riti e delle liturgie tradizionali per la celebrazione dei divini uffici ad esempio il fondatore intendeva chiedere alle autorità civili ed ecclesiastiche il permesso di aprire una chiesa greca a Padova che fosse cito ufficiata al rito orientale della chiesa greca dagli stessi alunni con ogni esquisita osservanza ecclesiastica si dimessa come di altri uffici e cerimoni un approccio piuttosto diverso da quello che si teneva allora nel collegio Sant'Atanasio di Roma dove nonostante l'esistenza di una chiesa virtuale tuttora esistente la maggioranza delle liturgie e dei sacramenti erano amministrati agli alunni secondo il rito latino o comunque con forti latinizazioni come maestro e primo direttore del collegio il Cotunio stabilì di chiamare un altro ex allievo del collegio romano il monaco Ilarione Cigala allora missionario nei Balcani ora tutto questo non poteva avvenire senza che ne arrivasse un eco fino a Roma il 7 dicembre 1658 il nunzio apostolico a Venezia Jacopo Altoviti informava per lettera il segretario della congregazione di propaganda fide Mario Alberizi dell'erezione di questo nuovo collegio greco nella città di Padova la sua relazione era piuttosto ottimista e l'attività del padre Cigala era presentata in una luce decisamente positiva la relazione che conteneva in allegato il testamento del fondatore e i capitoli diciamo così che regolavano la vita del collegio fu sottoposta all'attenzione di un erudito greco che era stato amico e compagno di studi a Roma del Cotunio e cioè il celebre Leone Allacci questi che già in passato aveva espresso peraltro in una lettera all'amico la propria perplessità rispetto al progetto di erigere un collegio greco nel territorio della Serenissima vedete qui questa lettera in cui senza mezzi termini Allacci definisce il territorio della Repubblica come un luogo inquietissimo capace di far scristianizzare scristianizzare un santo Allacci fece comunque notare che il Cigala poteva essere anche appunto un buon cattolico ma era figlio di un letterato e cronista greco questo Matteo Cigala conosciuto invece come scismatico quanto al progetto del Cottugno di fornire il collegio di Padova con una chiesa dove celebrare il rito greco si mostrava possibilista ma soprattutto perché opporre un rifiuto secondo lui avrebbe significato rischiare di spingere gli alunni e il maestro tra le braccia della chiesa ortodossa chiesa ortodossa che allora era rappresentata a Venezia dal metropolita di Philadelphia questo vescovo diciamo così con uno statuto del tutto problematico per Roma in quanto dipendente dal patriarca di Costantinopoli sostanzialmente un vescovo ortodosso ma attivo in una repubblica formalmente cattolica lo strumento migliore secondo Allacci per assicurarsi della fede cattolica degli alunni del collegio padovano era a suo avviso quello di sottoporre loro una professione di fede in lingua greca una professione di fede cattolica in lingua greca ma che dovesse essere brevissima e priva di sottigliezze teologiche perché cito col greco non bisogna mettere in disputa le cose almeno nel principio quanto al resto sarebbe stato necessario inviare dei libri liturgici espurgati dagli errori che hanno aggiunti gli scismatici moderni nelle stampe di Venezia cioè sostanzialmente dei libri liturgici corretti in senso cattolico e imporre la menzione del pontefice romano nel corso delle liturgie mentre un visitatore esperto avrebbe dovuto periodicamente ispezionare il collegio e riferire alla congregazione cioè sostanzialmente l'Allaci proponeva un controllo esattamente simile a quello degli altri collegi romani sulla base del parere di Leone Allaci il segretario di propaganda pensò che fosse più opportuno trasferire il dossier all'assessore del santo uffizio e quest'ultimo si mise subito in contatto con il suo rappresentante locale quindi nel gennaio del 1659 l'inquisitore di Padova ricevette l'incarico di indagare sul collegio Cottugno mentre si provvedeva a chiedere informazioni anche al vescovo di Padova Giorgio Corner presto emersi un quadro decisamente meno roseo di quello inizialmente prospettato il padre Cigala era infatti in causa con i commissari del collegio dei filosofi e dei medici dello studio Patavino cioè sostanzialmente appunto gli ufficiali a cui era affidata l'esecuzione del testamento di Cottugno dato che questi ultimi avevano glossato e ampliato i capitoli originari precisando che ogni allievo dovesse essere allevato nel rito e osservanza della chiesa greca orientale cattolica non scismatica e avevano ridotto il numero degli alunni specificandone anche il tempo massimo di permanenza sostanzialmente per ragioni quindi di risparmio economico inoltre avevano vietato la commissione tra alunni e dozzinanti cioè convittori a proprie spese e in generale avevano avvocato a sé la gestione economica ed amministrativa del collegio il padre Cigala aveva reagito a quello che gli era parsa come una diminuzione della propria autorità una critica al proprio operato e la lite si trascinava allora davanti al senato veneziano il vescovo di Padova peraltro dal canto suo descriveva una situazione ancora più deteriorata dato che alcuni degli alunni erano partiti subito cito per il mal governo e poca applicazione del padre Cigala e che quest'ultimo era anche accusato di aver permesso per ragione di interesse economico che si mescolassero insieme convittori già adulti con fanciulli di età tenera con tutti i rischi del caso anche la comunità greca della Repubblica era in subbuglio dato che da un lato secondo alcuni cito vorrebbe il detto Cigala introdurre una mescolanza di riti greci e latini cosa che a molti non è piaciuta mentre dall'altro il metropolita di Filadelfia appunto protestava contro la decisione di accogliere solo allievi cattolici a far precipitare le cose nel luglio del 1659 fu la scoperta che il direttore non aveva aspettato l'autorizzazione delle autorità per l'apertura della chiesa di una chiesa greca ma avesse di propria autorità cito convertito una stanza in oratorio ovvero chiesa addobbandola delle cose necessarie al rito greco conservando nella stessa il Santissimo Sacramento e facendo le solite loro funzioni pure alla greca comunicando non solo gli alunni ma anche altri greci che i vi concorrono fine citazione il vescovo aveva subito ordinato l'apertura di un processo canonico e l'arresto del cigala che tuttavia era riuscito a sottrarli sì grazie alle protezioni altolocate di cui godeva pur promettendo subito di riportare la stanza allo stato originario e in generale di non svolgere più alcuna cerimonia che non fosse diciamo autorizzata meno di un anno dopo tuttavia nel 1660 nel luglio un controllo a sorpresa ordinato dal vescovo rivelava che il cigala non aveva affatto adempiuto alle promesse fatte durante una perquisizione emerse che un altro locale del collegio era stato fornito di lumi e arredi liturgici e che l'eucarestia si conservava di nascosto in uno stipetto più da donne che decente per il sacramento insieme a denari bottoni dadi da giocare ed altre cose superfue aspramente rimproverato il direttore il cigala rispose di aver ricevuto le specie consacrate direttamente dal metropolita di Filadelfia il clima ormai era esacerbato dall'insofferenza per la disobbedienza del cigala e dal sospetto verso l'ortodossia del collegio stesso tanto che l'inquisitore scriveva a Roma di avere inteso da un testimone come lo stesso Cottugno fosse passato cito all'altra vita più scismatico che cattolico e che il suo cuore posto a seccare dal cigala fosse addentato da un gatto e portato via a mezzo e l'altro se lo tenga in qualche venerazione a parte questo aneddoto il rettore era ormai diventato la pietra dello scandalo e il vescovo corner riuscì a imporre a imporgli il bando da Padova il 7 luglio 1660 cigala lasciò la città e si rifugiò a Venezia da dove in seguito sarebbe partito per i Balcani mantenendo una posizione sempre più critica verso la chiesa cattolica che arrivò infine a fargli accettare l'ordinazione episcopale come arcivescovo di Cicro della chiesa ortodossa l'esistenza stessa del collegio Cottunio sembrava a questo punto compromessa ma l'istituto riuscì a sopravvivere in qualche modo grazie all'azione di due religiosi di origine cretese Erasimus Blacos e suo nipote Arsenio Scalludi eletto direttore quest'ultimo al posto del Cigala nell'ottobre del 60 che diciamo sa però garantire la continuità dell'insegnamento due anni più tardi attraverso la mediazione di un personaggio ambizioso dallo statuto confessionale ambiguo questo vescovo di Durazzo Simeon Lascaris il direttore del collegio e suo zio quindi Blacos e Scalludi facevano pervenire a Roma una proposta interessante allettante secondo loro la congregazione di propaganda avrebbe dovuto esprimere il suo accordo per l'apertura di una cappella ufficiata secondo il rito greco dato che senza il beneplacito apostolico devo dire che in questo caso le autorità veneta si rifiutavano di consentire in cambio si prometteva che il collegio avrebbe avuto cito le stesse regole e istituzioni come il pontificio collegio greco di Roma cioè che gli detti alunni facciano la professione della fede come quelli di Roma vivendo però secondo le tradizioni greche cattoliche il che in detto collegio di Roma per altra causa non si osserva concretamente gli alunni avrebbero poi ricordato il sommo contepice nei dittici e avrebbero ottenuto il diritto a un cardinale protettore in curia ora nonostante questa offerta fosse perfettamente aderente al piano prospettato sin dall'inizio da Leone a Lacci e sostanzialmente quindi significasse una uniformizzazione una conformità del collegio padovano a quella che era la realtà dei collegi romani non sembra che la Santa Sede l'abbia accolta nel Santo Uffizio a cui era rimessa la decisione finale regnava infatti ormai da tempo un certo scetticismo per non dire di peggio nei confronti della buona fede dei prelati greci residenti nel territorio della Repubblica di Venezia una cattiva fede diciamo una sfiducia non del tutto ingiustificata visto lo statuto anfibio per così dire di molti di loro e dello stesso Blacos uno dei proponenti di questa proposta appunto che nonostante mostrasse un'attitudine accomodante verso la Chiesa Latina era stato in precedenza un feroce critico dell'uniatismo peraltro proprio nello stesso momento nello stesso anno nel 1662 per volontà di un avvocato greco residente a Venezia Tommaso Flangini venivano poste le basi per l'apertura nella città lagunare non a Padova di un altro istituto questa volta esplicitamente concepito come un vivaio per la formazione e l'educazione del clero greco ortodosso il collegio Flangini operativo dal 1665 avrebbe dovuto essere insomma il contraltare più efficace all'attività del collegio greco di Roma preservando al tempo stesso la fede tradizionale della comunità ellenica e l'autonomia diciamo della repubblica dalle ingerenze della curia papale di cui l'educazione era appunto un elemento fondamentale in questo contesto lo spazio per l'ambiguità confessionale e per il compromesso andava sempre di più riducendosi come emersi anche da un caso declatante quello del cretese Francesco Scuffo quest'ultimo uno studente del collegio Sant'Atanasio di Roma come molti giovani delle generazioni precedenti peraltro aveva intrattenuto aveva ottimi rapporti con l'allora metropolita di Philadelphia il vescovo ortodosso appunto Meletios Cortatis che l'aveva invitato alla fine degli studi a raggiungerlo a Venezia promettendogli anche di ordinarlo sacerdote e di affidargli poi l'incarico di maestro nella scuola della comunità greca locale Scuffo allora aveva chiesto il permesso ai superiori romani allegando che la pratica della comunicazione in sacrist con gli acattolici in questo specifico il fatto di ricevere gli ordini non fosse del tutto vietata quando questo andasse a vantaggio diciamo così di possibilità educative e proselitistiche cioè sostanzialmente di andare a Venezia farsi ordinare da un vescovo ortodosso ma poi dopo magari fare inserire diciamo di nascosto contenuti cattolici nella predicazione nell'insegnamento eccetera tuttavia questo che una volta sarebbe stato ancora diciamo discutibile accettabile forse non era più possibile la risposta fu nettamente negativa e quindi Scuffo finì per ricevere gli ordini a Roma da un vescovo uniate quando ciò venne alle orecchie del metropolita l'attitudine conciliante si trasformò in un'ostilità esasperata tanto che Scuffo venne escluso dalla comunità e trattato peggio che se fossi ebreo o turco avvertendola anche che l'unico modo per poter poi tornare in grazia dell'arcivescovo e del popolo era cito professare o con la bocca in pubblico oppure in scriptis i dogmi della chiesa orientale e che mi dichiarassi alieno da quelli della chiesa romana quale fu il risultato? Il risultato fu che impossibilitato ad esercitare la missione per la quale peraltro era stato formato e l'educazione del popolo greco con le finalità eroselitistiche Scuffo finì per tornarsene a Roma e per pochi anni dopo passare al rito latino Per concludere questo caso dimostra come a quasi un secolo di distanza dalla fondazione del collegio Sant'Atanasio di Roma il collegio greco e romano fosse ancora prigioniero delle stesse contraddizioni e problematicità che ne avevano caratterizzato gli inizi che abbiamo menzionato appunto all'inizio della mia comunicazione vi era però a questo punto una differenza sostanziale cioè rispetto alla fine del Cinquecento il collegio pontificio di Roma non era più l'unico istituto finalizzato all'istruzione superiore dei greci ma al contrario si trovava ormai in competizione con una rete di collegi che nel bene o nel male lo avevano preso a modello per ispirarsene o per prenderne come appunto in quest'ultimo caso le distanze grazie mille grazie grazie per questa relazione io però sono curiosa di una cosa siccome abbiamo anche un momento di tempo lei ha accennato facendoci vedere quella cartina la slide iniziale a questi collegi che vengono fondati nell'Italia meridionale più tardi nel settecento ecco si può brevissimamente dire a quali logiche appartengono cioè è chiaro che nell'Italia meridionale c'è una grossa presenza albanese no? quindi ci sono problemi però ecco rispetto a a queste fondazioni cinquecentesche o primosecentesche che diciamo quella romana obbedisce a una certa logica quelle come lei ha spiegato perfettamente quelle altre ad altri problemi nella Repubblica di Venezia in terraferma eccetera quelle dell'Italia meridionale ecco da che cosa sono motivate in sintesi due parole ma io non sono un esperto però l'impressione è che in questo caso specifico si cerchi veramente di diciamo siamo più dalle parti appunto del seminario quindi sostanzialmente alla formazione e l'educazione quindi anche controllo di un clero che poi alla fine deve agire su comunità locali più che su diciamo formazione di un clero missionario come è invece l'idea diciamo del collegio Sant'Atanasio di Roma nonostante per molto tempo a Roma si siano formati anche tutti non tutti ma una parte dei sacerdoti italo-greci perché appunto era fino a lungo tempo è stata l'unica possibilità e quindi tra gli alunni tra i tanti greci appunto del collegio di Roma come si diceva prima il termine è molto ambiguo si trovano greci orientali come si diceva si trovano ruteni si trovano melchiti ma si trovano anche italo-greci quindi diciamo per lungo tempo Roma fu una delle poche possibilità educative di livello per queste comunità la presenza stabile fissa e anche numericamente ormai rilevante appunto di fedeli di rito greco in Calabria e in Sicilia portò alla fine un po' come ovunque diciamo così alla istituzione anche appunto di rete locale diciamo così per la formazione sul posto del clero che poi doveva avere cura d'anime certo certo e per questo perché la grossa presenza richiedeva richiedeva appunto una presenza di clero che fosse integrata con le comunità locali insomma in qualche modo quindi preparata anche dal punto di vista linguistico che ci fosse questa comunanza diciamo linguistica e non soltanto diciamo così educativa eccetera la ringrazio molto ci sono delle domande sulle relazioni allora grazie di nuovo e passiamo alla relazione allora del presidente che ha una ha un titolo molto lungo e molto accattivante anche molto molto diciamo attuale eh sì tolleranza e pluriconfessionalità nell'area polacco ucraina del XVII secolo l'istituzione del collegio armeno cattolico di Leopoli prego grazie inizio subito allacciandomi alle ultime parole del collega Santos sul collegio greco i collegi gresci nell'Italia meridionale che avevano più una funzione di seminari che non veri e propri collegi educativi in realtà il collegio armeno cattolico che nasce a Leopoli pur presentandosi come un vero e proprio collegio legato a propaganda fide in realtà come fine aveva quello di creare un clero che lavorasse sul posto e che si battesse per la riconquista degli ortodossi locali portandoli alla fede latina di Roma detto questo inizio subito con il dire che il collegio armeno cattolico di Leopoli si raffigura si può dire che sia stato un vero e proprio flotto tante erano le aspettative che in realtà poi alla conclusione un collegio che ha avuto una vita estremamente breve ma una vita piena di ostacoli di difficoltà di incomprensione proprio perché rispecchia in realtà la situazione pluriconfessionale plurinazionale che di questa area geopolitica complessa che era un territorio vastissimo che andava dal Baltico fino al Mar Nero detto questo voglio anch'io fare qualche riferimento storiografico prima di entrare nel vivo del tema che intendo trattare esiste già una bibliografia che riguarda e che si interessa della comunità armena in Polonia peraltro un libro datato ma ancora validissimo di Gregory Petrovitz o l'altro in lingua inglese di Dmitro Blazyovski che trattano di questa presenza non notevole di questa comunità soprattutto una comunità che è incentrata particolarmente a Leopoli o una quantità più elevata invece nella valacchia del tempo ora anch'io per studiare questa istituzione che nasce a Leopoli ho fatto così riferimento alla documentazione conservata presso l'archivio di Propaganda Fide in maggior parte presso l'archivio dei teatini a Roma perché il collegio viene gestito viene assegnato ai teatini ma anche molto importante sono le enunziature di Polonia proprio perché questo collegio nasce in territorio ucraino perché allora Leopoli si trovava in territorio ucraino ma sotto lo stretto controllo del munzio a Varsavia altrettanto ho trovato interessante ma questo riguarderà la seconda parte del volume nel prossimo anno perché si tratta di un metà un periodo che va dal 1743 al 1797 presso l'archivio apostolico Vaticano nel fondo Garampi che è tutto l'archivio dell'annunziatura al tempo di Archetti Saluzzo e Litta dove ci sono volumi estremamente interessanti sui collegi che sono presenti sul territorio polacco lituano e tra questi anche il collegio armeno cattolico e altrettanto molto interessante ho trovato perché nel passaggio degli anni cambiava anche la formula di giuramento e qui sono riportate invece le varie formule finali di giuramento di questi anni che ho appena citato ora come Matteo anch'io mi sono sono partito essenzialmente leggendo la voce del Moroni il quale attribuiva alla voce collegio il significato cito di casse di educazione nelle quali i giovani si raccoglievano per ricevere l'opportuno insegnamento fin citazione per propaganda fide significava proprio invece cercare di creare un gruppo dirigenziale di dirigenti che servissero per rinforzare il legame tra centro e periferia una periferia lontanissima da Roma da propaganda dalla Santa Sede difficile da raggiungere come uno può immaginare ma soprattutto inserita in questo vastissimo area geopolitica dove c'era stata però una grande innovazione per quanto riguarda la tolleranza innovazione al tempo degli ultimi sovrani della dinastia degli Aghelloni e penso che questo ne parlerà oggi pomeriggio Boccolini ma anche sotto il regno di un personaggio estremamente importante all'inizio in viso alla Santa Sede che era il transidvano Stefan Batori che invece si dimostrerà estremamente aperto per quanto riguarda la tolleranza in un paese e qui permettetevi che leggo due cose dove c'era un clima testimoniato dal cardinale Stanisab Osius che in piena età tridentina riscontrava una con profonda amarezza quanto la sua patria fosse un vero e proprio cito asilum ereticorum fine citazione una verità condivisa dal monsignor Giulio Ruggeri innunzio di Papa Pio V quando nel suo lungo articolato e preciso resoconto inoltrato alla segreteria di Stato nel marzo del 1568 al termine del suo mandato denunciava che nel regno vivevano e operavano due grandi nemici della cattolicità da una parte gli ortodossi scismatici dall'altra gli eretici tucur non faceva distinzione tra luterani calvinisti e quant'altro gli eretici e anche questo aspetto così che era estremamente sentito dalla Santa Sede quindi da propaganda viene riscontrato dal monsignor onorato Visconti un nunzio a Varsavia che è centrale per la nascita del collegio armeno cattolico il quale in viaggio nell'ottobre del 1630 alla volta di Varsavia passando da Racivor a Oswiecen nota anche col nome tedesco di Auschwitz si era fermato a Gioria Piscina dove si imbatteva in una nutrita presenza qui lo definisce luterani calvinisti insomma eretici e per questo dava ordine ai suoi al suo segretario cito che fosse meglio conservato il santissimo sacramento chiusa citazione temendo gesti inconsulti o provocatori da parte degli eretici dunque c'è un'attenzione particolare da parte della Santa Sede quindi di propaganda fide per questa area geografica dove noi solitamente indichiamo la Polonia una realtà la realtà in particolare antemurale cristianità cattolica per eccellenza ma in realtà all'interno di questa vasta area cioè ci sono tante religioni e soprattutto ci sono tanti riti all'interno delle varie chiese cioè aveva molto attecchide nel primo momento il luteranesimo in Lituania che lascia il posto invece al calvinismo nelle classi nobiliari lituane il calvinismo è imperante mentre nella parte orientale il problema invece è il problema dell'ortodossia degli scismatici e quindi c'è sempre questa volontà da parte di Roma di trovare quella quel accordo quel ritorno ad un'unica chiesa come era stato per il concilio fiorentino che ha avuto una vita brevissima ma che aveva dato tante speranze di unità della chiesa universale quindi c'è tanta diversità ma il focus del mio sguardo si è incentrato particolarmente proprio su quest'area geografica e su due momenti storici perché non si può comprendere il sorgere la nascita della del collegio armeno cattolico alle opoli se non lo si inquadra all'interno di una cornice politico militare di estrema difficoltà da una parte la la figura di Sigismondo III Vasa che permette alla compagnia di Gesù di entrare all'interno del regno e quindi di trovarsi anche in forte opposizione con la chiesa latina locale ma soprattutto con l'Università di Cracovia e a differenza di suo figlio Ladislao IV Vasa che rispetto al padre soprattutto per avere la possibilità di una elezione sicura e certa perché ormai siamo nella passa della monarchia elettiva e non più di una monarchia ereditaria aveva bisogno anche di quella componente scismatica ucraina che lo poteva supportare in questa sua avventura al trono di Polonia questo però aveva comportato e comporta una serie di come possiamo dire di autorizzazioni raccolte in 14 punti di doglianze che Ladislao accetterà contro il parere di Urbano VIII e di propaganda fide ma che poi Roma dovrà accogliere dovrà accogliere su richiesta del re che manderà un suo ambasciatore straordinario nella famosa ubbidienza missione di ubbidienza a Roma per convincere il Papa a dare il proprio assenso a questo accordo che apre però un profondo contenzioso con gli unati invece quella parte di ex scismatici ortodossi che invece riconoscono dopo Brest dopo l'Unione di Brest riconoscono il Papa di Roma come il Capo Supremo della Chiesa che avevano avuto invece con Sigismondo Terzo una grande attenzione quindi una grande disponibilità con Ladislao e con l'accettazione dei famosi 14 punti di doglianze da parte degli scismatici si ribalta un po' la situazione quelli che erano stati il punto focale centrale ovvero gli uniati questa chiesa che guarda Roma che mantiene il rito bizantino ma guarda Roma e riconosce nel Papa l'unico capo della Chiesa si trova oggi a scontrarsi invece con gli scismatici ucraini i quali rivendicano la riconsegna degli edifici ecclesiastici e dei possedimenti che erano stati loro tolti al tempo di Sigismondo l'altro aspetto politico militare che ci permette poi di capire la motivazione della nascita del collegio armeno cattolico è accade sotto il nuovo re in Giovanni II Casimiro Vasa il fratellastro del precedente il figlio di Sigismondo III il quale avrà difficoltà a tenere unita la stessa compagine della Gospospolio ovvero di questa unione tra la Polonia e il Ducato di Lituania e quella che solitamente viene considerata dagli storici dell'Europa orientale la terza gamba ovvero l'Ucraina tenerla assieme perché è preso da tre spinte contrarie una che riguarda l'invasione degli svedesi di Carlo X Gustavo che arriva per fine a occupare Varsavia e Cracovia e la fuga della coppia reale l'altra l'invasione in Lituania di Alex Semihajlovic che vuole conquistare non solo occupa Vilnius ma vuole conquistare tutto il territorio ucraino e l'altra invece è un problema interno ovvero la grande nobiltà magnetizia polacca che si trova a scontrarsi contro la corona e questa rivolta è guidata da un grosso personaggio Sebastiano Lubominski che rivendica l'autonomia della nobiltà contro la corona che invece a sua volta tentava di prendere nelle proprie mani la gestione totale della società del tempo e quindi anche della politica questi tre momenti che prendono nome venne definite come il periodo del potop ovvero del diluvio sfociano nell'accettazione da parte di Giovanni II Casimiro Vasa dei patti di Adish ovvero questi patti con i quali riconosce totalmente la presenza ovvero la conquista del metà del territorio ucraino dei osacchi zaporoli che passano sotto il controllo moscovita e dall'altra cosa che Roma non accetterà ci saranno qui sì doglianze da parte del papa verso il re perché si accetterà che il metropolita di Kiev faccia parte e quindi voti all'interno della Sejm ovvero del Parlamento Polacco della dieta Polacca questo riequilibrio delle due chiese quella latina e quella scismatica porta a considerare a guardare con un certo interesse a questa comunità di questa diaspora di armeni che si trova sul territorio polacco in realtà è una comunità non vastissima è una comunità prettamente intorno dentro e intorno Leopoli tra anche una comunità che si trova a Kaminespodolski che è una sede vescovile ma che verrà abolita proprio con l'arrivo dell'armata turca che conquisterà questa fortezza e mentre una un numero più elevato diceva Monsignor Visconti una relazione a propaganda fide di un numero di 7000 armeni che si trovavano invece su tutto il territorio della Valacchia in questa situazione generale c'è la novità cioè il passaggio dalla chiesa ortodossa alla chiesa latina di Monsignor Torosovic questo Monsignor Torosovic che è un personaggio estremamente ambiguo come poi dirò che il 24 ottobre 1630 sulla base di quanto era avvenuto negli anni precedenti a Brest ovvero nel 24 giugno del 1890 ovvero della accettazione da parte di parte dei ruteni scismatici a far parte della chiesa latina Torosovic transita dal campo dell'ortodossia scismatica a quella latino romana personaggio ambiguo come vedremo ma che Roma e la propaganda vede con un certo interesse proprio perché si immagina si vuole si pensa di creare intorno a questa sede vescovile che accetta il primato del papa di Roma creare una chiesa che possa riunire tutta la comunità armena e nello stesso tempo possa dar manforte alla comunità degli degli uniati e quindi contrapporsi allo strapposire dei non uniti ovvero degli scismatici che hanno una avevano avuto un passi una via libera per entrare perfino in quella che è la struttura statale della svespospolita proprio perché si dà una certa importanza a questo passaggio di Nicola Torosowicz cinque anni dopo sarà Urbano ottavo a concedere il titolo di arcivescovo degli armeno armeno uniti per la Polonia e la Valacchia con sede a Leocesi perché dico è un personaggio ambiguo è un personaggio ambiguo perché fin da subito viene non si ha molta fiducia nella sua trasformazione a questo suo passaggio sincero tra l'ortodossia e al cattolicesimo tanto che ne parla con sospetto Monsignor Filonardi ne parla con sospetto Monsignor Visconti nei vari nunzi ne parlerà con sospetto anche Monsignor Pignatelli colui che poi diventerà Papa Innocenzo XII perché il comportamento sia sul piano morale di questo personaggio ma sul piano anche politico non dava grande fiducia e lo ritroviamo questa come posso dire questa incertezza nella volontà vera sincera di Torosovic nello scritto di Urbano Cerri il quale molti anni dopo nella famosissima relazione a Papa Innocenzo X scriveva è però uomo assai instabile e sensuale onde per assicurarsi non meno da lui che dalla nazione gli è stato fatto prima di partire consagrare in Roma il coaiutore col titolo di vescovo d'epifania perché questo perché c'era stato un gesto estremamente ritenuto da Roma fuori luogo appena eletto arcivescovo Torosovic fa un viaggio a Costantinopoli e va a trovare il patriarca Filippo degli armeno scismatici e questo allarma Roma l'allarma perché non si capisce che gioco stia giocando ma in realtà lo si capirà in seguito perché Filippo sperava di far nominare come coaiutore che avrebbe preso il posto di Torosovic alla sua morte di un vescovo scismatico molto vicino alla patriarca Filippo e quindi di riportare questa breve comunità di armeno cattolici alla all'ortodossia di questo se ne erano preoccupati a Roma ma anche si erano preoccupati perché era un uomo che dava grande scandalo in quanto condivideva il proprio letto con una donna con la quale aveva avuto diversi figli e per non farsi mancare nulla aveva anche un amante fuori Leopoli che si scopre poi in seguito con grande scandalo di Monsignor Pignatelli che questa sua amante era sposata e lo scandalo alla comunità dei fedeli era totale era completa allora c'è bisogno di creare un clero che possa seguito preparato che possa in qualche modo fermare bloccare queste queste forme di comportamento e nello stesso tempo di mantenere viva la tradizione armena in un territorio diverso lontano dalla propria patria e soprattutto una comunità che era composta esclusivamente di mercanti che le famiglie spesso e volentieri i i padri si allontanavano per per le loro mercanzie per lo scambio delle mercanzie e i figli venivano istruiti da personale privato che li doveva preparare non tanto alla conoscenza dei testi sacri in lingua armena ma saper far di conto mentre la santa sede immagina che fosse invece necessario preparare un clero che conoscesse sia la tradizione armena i testi sacri armeni tradutti ma che potessero imparare anche altre discipline tra cui imparare il canto liturgico che era rimaneva così di tradizione bizantina ma che era fortemente auspicato dalla santa sede ecco che nasce allora la volontà di creare questo collegio e chi meglio di un padre missionario Casso Teatino che aveva già dato prova della sua capacità missionario di missione in territorio come a Costantinopoli come a Galata potesse meglio concretizzare questa idea di propaganda e quindi si pensa a padre Clemente Galano che era stato per moltissimi anni in missione in Georgia poi si era spostato a Costantinopoli poi a sua volta a Galata perché Costantinopoli non era più sicura ed infine lo si lo si indica come l'unico che potesse veramente creare per la sua esperienza per la sua conoscenza dell'Armeno per aver lui già tradotto i testi liturgici armeni e i testi sacri armeni e chi meglio di lui poter attivare questo collegio che non deve essere però un collegio da assegnare da dare ai padri gesuiti perché già c'era stato da parte dell'arcivesco Torosovice un un diniego assoluto di di aprire ai padri gesuiti che considerava eccessivamente legate alla tradizione latina e così poco pronti a mantenere le tradizioni della degli armeni seppure della diaspora degli armeni devo dire che studiando le carte di propaganda fide mi sono reso conto che l'idea del collegio nasce anche molto prima della vera propria istituzione quando sarà nel 1664 era già stato così indicato da Monsignor Filonardi Nunzio in Polonia nel 37 ma non se n'era venute a capo sarà invece una iniziativa di Mario Alberizzi segretario di propaganda fide nel 60 e poi nel 62 il quale scriverà a Pignatelli chiedendo di fare un giro in quei territori spostarsi a Leopoli e capire qual era la reale situazione della comunità armena locale e soprattutto capire se c'era una volontà da parte di Jan secondo Casimiro Daza il re e da parte della gerarchia cattolica affinché si potesse aprire un collegio armeno cattolico a Leopoli e come strutturarlo ecco il problema è proprio questo come strutturare il collegio soprattutto come finanziarlo ecco e qui c'è una proposta che parte dal proprio da 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 Leopoli che è quella di far uso di alcuni lasciti alcuni fondi volevo essere pregreso che potessero finanziare la nuova istituzione due erano i i fondi sui quali si faceva riferimento uno era un lascito di Antonio Barberini cardinale Antonio Barberini fratello del papo Romano VIII che aveva lasciato scritto che per mancanza di un numero di allievi sufficienti presso il collegio greco di Roma vi aveva surrogato gli armeni e particolarmente quelli della Polonia l'altro fondo era invece un altro lascito testamentario questa volta di Monsignor Paolo Maria Cittadini già arcivesco di Naxivan in Armenia di un cospicuo in porto di 12.000 scudi frutto di donazione raccolte però nelle Indie occidentali messa a frutto con l'acquisto di 117 posti in monte negli anni 1632 1640 1645 tutti i due erano ingenti di notevole quantità e Torosovic non si fa scrupolo di chiedere immediatamente il trasferimento di queste somme a Leopoli con l'opposizione di Monsignor Pignatelli il quale non è attualmente d'accordo che questi soldi vadano direttamente a Torosovic il quale dimostra di avere una vita non poco religiosa ma immorale e quindi un uomo che spendeva espandeva e manteneva questa donna a casa con la quale aveva avuto i figli c'è un documento interessante a propaganda a Fide perché la dipingono una donna che vestiva come i cardinali e con la papalina del papa stravagante ma in realtà dava molto scandalo quindi non bisognava secondo Pignatelli trasferire questi soldi direttamente alle opere nelle mani del papa se propaganda Fide doveva in qualche modo sostenere l'attività del collegio questo doveva passare direttamente invece dal Nuzio e quindi dal Renunzio che avrebbe poi elargito le somme voglio stringere non voglio allungarmi l'arrivo del padre Galano non è molto non è ben accolto come si può immaginare a Leopoli non è accolto bene dai tre consoli cioè i tre rappresentanti della comunità e soprattutto non è ben accolto da Torosovic il quale aveva fatto proprio richiesta del transito di queste somme per acquistare mobili terreni e quant'altro e l'arrivo di Galano il quale pone subito un problema di base dove ubicare questo collegio dove metterlo quali erano le strutture e soprattutto qual è il numero minimo e massimo di studenti da poter ricevere e soprattutto come pagare i libri e come pagare il vitto e come mantenere la stessa piccolissima comunità teatina che si era recata fino a Leopoli oltre a padre Galano c'era padre Pidau che sarà poi il successore di Galano è un altro giovane teatino i quali non trovano una sistemazione gli viene assegnata una casa con un grande primo piano e a fianco di una stanza come dormitorio e Galano si lamenta con propaganda fede c'è tutta una serie di corrispondenze propaganda fede si riunisce in congregazione perché bisogna trovare una soluzione ottimale per far partire questo benedetto collegio in realtà io ho detto sorvolo lo leggeremo poi nella relazione finale c'era anche già una delle delle spinte dei motivi di creare questo clero autotono c'è un clero che servisse proprio per il territorio perché da una statistica che viene fatta sia da Pignatelli e riportata da propaganda fide il numero dei sacerdoti armeni di rito uniate in questo territorio Leopoli e Balacchia erano poi esigui per esempio alle opere ce n'erano sei sacerdoti compreso l'arcivescovo il coagliutore e il segretario dell'arcivescovo a Camine e Spodol ce n'erano solo sei a Zamosch tre a Giaslov tre a Sviatino uno a Huc uno a Kiev uno quindi ce n'erano numero esigo bisognava invece rimpolparlo e creare questo gruppo di futuri sacerdoti armeni i quali dovevano conoscere ricordavo ma queste sono le direttive di padre Galano non solo la lingua armena ma la lingua tedesca la lingua francese e ovviamente l'italiano la filosofia e quant'altro il lavoro di Galano è difficile non si arriva con facilità a a creare questo collegio fino a quando nel 7 ottobre del 1664 la propaganda FIDE decide di assegnare a Galano tramite però Pignatelli nulla direttamente a Torosovic la somma di 400 scudi il quale c'è un documento a provocando di sua sponte spontaneamente Monsignor Pignatelli aggiungerà cito 40 Ungari del proprio non essendo possibile di fare alcun fondamento anche il minimo aiuto della nazione tralascio ancora altre cose nel 1664 finalmente il collegio parte prima però c'era stata una forte discussione e propaganda FIDE aveva chiesto di stabilire primo il numero degli studenti ammissibili secondo stabilire il numero di personale di servizio terzo stabilire l'età degli studenti quarto stabilire l'iter che ogni studente avrebbe dovuto seguire in altre parole se fossero tenuti o meno a giurare per diventare futuri ecclesiastici quinto stabilire lo studio delle materie che sarebbero servite per entrare a far parte della vita ecclesiastica quindi alla risposta di tutti quei siti propaganda FIDE il collegio prende inizio solamente due parole perché c'è un registro delle spese delle entrate del collegio che si trova a propaganda FIDE cito soltanto e l'anno di istituzione 1664 che cominciò il collegio pontificio Leopoli all'24 di gennaio a di 27 dicembre 1644 rimesso qui d'ordine della sacra congregazione di propaganda FIDE a Monsignor Antonio Pignatelli arcivesco di Larissa annuncia apostolio della sacra reale maestà di Giovanni Casimiro re di Polonia di Svezia al padre Don Clemente Galano Chierico Regolare missionaria apostolica agli armeni di Polonia e Valacchia e province circonvicine e prefetto di detto collegio pontificio di Leopoli per la nazione armena per il mantenimento di vitto vestito libri mobili di casa utenze di cucina infermeria ed altre specie necessarie ordinarie e straordinarie dei maestri alunni e servitori del medesimo collegio per tutto l'anno del Signore 1664 prossimo e i famosi 400 scudi di cui parlavo in precedenza il collegio avrà vita difficile perché da lì a poco morirà padre Galano e non vedrà veramente realizzato appieno il collegio armeno cattolico di Leopoli sotto la direzione di Pidao fino a tutta la fine del Seicento il collegio avrà uno scopo che era quello proprio per cui era nato nel Settecento prima dell'arrivo dell'età napoleonica ma nel nostro caso specifico prima delle tre partizioni polacche quindi la fine della Gespospolita e anche la scomparsa alle carte geografiche della Gespospolita il collegio armeno cattolico vivacchierà con un numero sempre molto esiguo di studenti per essere poi completamente chiuso grazie scusate se ho parlato più del necessario no grazie grazie Gaetano che invece è stata molto interessante perché ha portato in luce tutta una serie di problemi no cioè anche come questi collegi vengono intesi in maniera diversa da chi li gestisce chi li fonda chi li sostanzia dal punto di vista finanziario e da chi li usa cioè è molto interessante il fatto che essendo luoghi anche praticati da mercanti si vuole tutto sommato che questi imparino anche a far di conto quindi il discorso religioso il discorso della formazione religiosa se da un lato è ovviamente molto sostenuto dalle gerarchie ecclesiastiche dall'altro è se possiamo dire marginale in un certo senso no proprio perché si vede invece un altro tipo di formazione e poi ecco questi questi collegi hanno messo cioè le vostre relazioni hanno messo anche in evidenza il discorso della conflittualità che c'è attraverso gli ordini religiosi che sono chiamati o non chiamati a gestirli quindi l'onnipresenza dei gesuiti nei collegi viene poi ridimensionata a seconda se altri invece hanno un po' troppo annoia diciamo così questa onnipresenza e allora tirano fuori altri altri ordini religiosi per gestire qui ecco sarebbe interessante ovviamente vedere la differenza nella gestione di ordini da parte di ordini religiosi rispetto ai gesuiti e per esempio tu citavi i teatini quindi anche c'è una differenza chiamiamola di stile di impartire l'educazione a questi giovani e poi ecco ritornando anche a qualche intervento precedente mi ha anche colpito questo fatto che forse lo citava Santos di questi giovani che vengono poi ci stanno poco e tornano via no perché c'è anche un po' la difficoltà di adattamento da chi viene da altre culture educazioni circostanze famiglie nell'essere messi in questi collegi parlavo soprattutto lì mi pare che citasse il discorso del collegio greco a Roma l'esempio forse era una slide che avevo visto quindi ecco mi sembra che insomma la mattinata sia stata molto ricca anche se ci siamo contenuti un po' sull'Europa orientale e con appunto poi le presenze del collegio greco stasera nel pomeriggio ci saranno altre purtroppo ho sentito che non mancano due relazioni e quindi le isole britanniche restano sguarnite mi sembra sì 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 appunto diciamo l'Inghilterra non resta sguarnita per l'assenza appunto di Morris Whitehead e della signora che doveva fare la relazione sul collegio scozzese sì ma evidentemente c'è una un'ondata di ritorno combinata influenza e covid infatti io mentre stavo qui ho ricevuto un messaggio dalla mia università che avevamo un consiglio di facoltà lunedì e che invece viene online che vuol dire che quelli che si sono giustificati per malattia sono un numero notevole effettivamente c'è comunque grazie allora a tutti io cedo la parola a Matteo all'organizzatore per scusa un secondo la parola non so se volete eventualmente dare la possibilità a chi ci sta seguendo su youtube di fare domande magari alla fine della discussione del pomeriggio io volevo dire delle cose sull'ultima relazione se è possibile se è possibile certo certo no perché mi interessa molto la storia del collegio armeno di Leopoli nel senso che a parte il collegio greco in realtà il mio principale interesse di ricerca ormai da alcuni anni sono gli armeni a Roma piuttosto che i greci quindi mi interessa molto ho sentito con piacere la ricostruzione c'erano alcune cose che secondo me appunto meritano di essere discusse per esempio il padre Galano subito prima di essere inviato appunto a Leopoli per la distruzione del collegio eccetera aveva provato a fare la stessa cosa a Roma cioè negli anni evidentemente precedenti c'è questo tentativo di stabilire un collegio per armeni a Roma che è un disastro su tutta la linea quindi anche dal punto di vista diciamo così della curia mandare qualcuno che non ha avuto un grande successo a Roma a fare la stessa cosa altrove non è forse così lungimirante nel senso che ci sono lamentele appunto di questi studenti che non hanno da mangiare che fa freddo che il docente è inadeguato eccetera e per quanto riguarda il collegio i stessi fondi no come è stato detto c'è questa cosa che secondo me ritorna anche in altri collegi cioè il tentativo tutte le volte di utilizzare dei lasci testamentari a volte non esplicitamente indicati in quanto tali perché se non ricordo male vado a memoria per esempio il lascito di cittadini era per l'erezione di un collegio armeno nel Nakicevan cioè non aveva nessun interesse a fare delle cose in Polonia però dato che sono soldi per gli armeni allora c'è qualcuno che cerca di dirgli no ma utilizziamoli qui piuttosto che là e credo che non sia l'unico caso cioè c'è un po' questa costante diciamo così da cercare di raccimolare soldi anche come dire stornandoli dalla destinazione originaria comunque è un diciamo effettivamente sono poche persone sono una comunità diciamo ridotta però abbastanza interessante nel senso che per il mondo armeno cattolico comunque appunto ha dei numeri ridotti è comunque la prima unione molto precedente rispetto a quella diciamo così che poi proprio porta alla formazione di un patriarca armeno cattolico eccetera forma comunque delle persone delle personalità che hanno dell'interesse anche diciamo appunto di vista intellettuale uno degli allievi del collegio di Leopoli e poi anche che ha studiato a Roma quindi un altro trae d'unione importante è questo Stepano Sroshka che ha scritto delle cose interessanti insomma credo che sia un argomento che merita un approfondimento rispetto anche a quello che hanno fatto gli studiosi armeni o il padre Petrovic insomma credo ci sia ancora da dire delle cose per cui sono curioso di leggere poi la la versione stampa diciamo così del saggio del professor Platania grazie grazie per questa precisazione Giacano volevi aggiungere qualcosa ha perfettamente ragione il collega sì il tentativo di parlare Roma c'era stato ed era stato un totale fallimento ma in realtà io immagino che si è pensato a padre Galano perché non c'era nessun altro che conoscesse l'armeno immagino e quindi l'unico che aveva tradotto i testi e si era pensato a lui e forse anche perché c'era se Roma non aveva una grande opinione di padre Galano però da parte di Pignatelli c'era invece e c'è nella corrispondenza dell'annunziatura una sottolineatura sull'importanza svolta da Galano in Georgia e quindi che può essere considerato l'unico a poter fondare questo collegio in questa regione che io insisto nel dire adesso al di là perché oggi si stava parlando dei collegi ma il collegio armeno cattolico nasce solo per una questione prettamente esquisitamente politica bisognava fare in modo che non si permettesse più il passaggio da un rito a un altro come era stato stabilito dai patti di Adish dove si liberalizzava il collega Boccolini ha scritto un bellissimo saggio su gli ucraini uniati e scismatici c'era un vescovo che passava secondo delle prebende dall'una all'altra parte un giorno sì e un giorno no quindi il problema di questa di queste aree si stringe anche con il problema politico di instabilità politica di come in quel momento gli sovrani che regnavano in Polonia avessero negli ucraini una spina nel fianco particolarmente la componente dei zaporodi e quindi c'era bisogno di bloccare oltre che di creare una componente di futuri sacerdoti che potessero favorire questa comunità che è una comunità come ripeto che i polacchi stessi lo stesso sovrano non è che si fidassero enormemente degli armeni proprio perché mercanti e come tale pronti a cambiare posizione laddove c'era dei propri interessi e quando tu sottolineavi il fatto proprio dei mercanti è un documento che ho rintracciato dove alcune famiglie di mercanti si chiedevano ma perché della necessità di questo collegio quando noi paghiamo lezioni private ai nostri figli però non paghiamo gli scritti cose sacre o latino o filosofia a far di conto loro dovevano solo far di conto quindi la secondo il mio giudizio il problema e lo vedremo anche oggi pomeriggio con l'intervento del collega Boccolini la difficoltà anche a Vinius di fondare un collegio a Vinius è un territorio così complicato e complesso sia sotto l'aspetto politico sia sotto l'aspetto militare sia sotto l'aspetto religioso e questi collegi nascono ma non è che hanno avranno grande fortuna almeno per quello che abbiamo studiato questa in questa parte poi si nascono sedi patriarcale più solide ma adesso in questo momento questa necessità altrimenti non si capisce perché si sceglie come arcivesco Torosovic che è una figura certamente indegna per fare il vescovo pur di una piccola comunità che è ritornata dal seno della Santa Sede dal seno di Roma certo ci sarebbe ci vorrebbe un'immagine della signora che vestiva da cardinale quello è la papadina esatto se trovate una iconografia di questa persona cioè no ma mi ha colpito a parte gli scherzi il fatto che venga messo in evidenza l'abito cioè perché l'abito da cardinale è un'appropriazione indebita è assolutamente più c'è la papalina la papa quindi lei vuole essere la protagonista indossando abiti che non sono suoi e quindi questo colpisce proprio questa cosa in ragione tutti ricordi il convegno che abbiamo fatto poche settimane fa sulle presenze femminili a Roma proprio il caso eclatante la prima volta nella storia della chiesa di Roma un preconcilio retto diretto da una donna che era Maria Casimiera Sobiesca con una sorta di dieci cardinali intorno che dovevano scegliere il pontevice quindi era interessante vedere il ruolo delle donne poi all'interno di questo futuro nel caso della compagna di Torosovic vuol dire va anche al di là al di là appunto appropriandosi di un vestito che fa appunto che dà un autoritas che non le è dovuta insomma bene io cedo la parola a Matteo all'organizzatore per vedere appunto come poi intendete io mi chiedevo per quello che diceva prima la domanda non so ci sono domande sul io al momento non le vedo per quello proponevo di aspettare la fine della giornata tanto siccome all'inizio non l'abbiamo fatto questo discorso magari lo facciamo d'accordo ascoltando che c'è la possibilità eventualmente di intervenire e riserviamo le domande per la fine della sessione pomeridiana volevo avvisare anche chi ci sta seguendo se lei professore è d'accordo che noi riprendiamo i lavori alle tre e che quindi loro si possono nuovamente collegare da youtube per seguirci alle tre mentre invece voi relatori potete cliccare sulle mail che avete avuto nei giorni scorsi la sessione per voi rimane aperta quindi potete sia rimanere collegati che cliccare e rientrare verso le tre benissimo io in questo momento chiudo il live su youtube e do l'avviso a chi ci sta seguendo da lì di ricollegare